1. Racconto di un provinciale Il direttore mi disse «Vi tengo solo per riguardo al vostro liberito babbo, se no da un pezzo vi avrei fatto volar via». Io gli risposi «Voi mi disungate troppo, eccellenza, supponendo che io sappia volare». E poi sentì che diceva «Conducete via questo signore, mi guasta i nervi!». Un paio di giorni dopo mi licenziarono. E così, in tutto il tempo, da che mi considero adulto, con grande afflizione di mio padre, architetto municipale, ho cambiato nove posti. Sono stato impiegato in differenti amministrazioni, ma tutti questi nove posti si somigliano fra loro come gocce d'acqua. Dovevo star seduto, scrivere, ascoltare osservazioni sciocche e grossolane e aspettare che mi si licenziasse. Mio padre, quando giunsi da lui, stava a sedere affondato in un seggiolone, con gli occhi chiusi. Il suo viso, magro e asciutto, con un riflesso giurlogno nei tratti rasati, di viso somigliava a un vecchio organista cattolico, esprimeva rassegnazione e umiltà, senza rispondere al mio saluto e senza aprire gli occhi, disse «Se la mia cara moglie, madre tua, fosse viva, la tua vita sarebbe fonte per lei di continuo dolore. Nella sua morte prematura, io scorgo la divina provvidenza. Te ne prego, disgraziato, continuò aprendo gli occhi, insegnami, che devo fare di te?» In passato, quando ero più giovane, i miei parenti e i conoscenti sapevano che cosa fare di me. Gli uni mi consigliavano di andare a fare il volontario, altri di entrare in una farmacia, altri ancora al telegrafo. Ora invece, che avevo ormai 25 anni compiuti, rimanano perfino comparsi dei capelli bianchi e le tempie e dopo che ero già stato volontario, dei garzoni di farmacia e telegrafista, ogni possibilità terrena pareva esaurita per me e non mi si davano più consigli, ma si sospirava soltanto o si scoteva il capo. «Che cosa pensi di te? continuò mio padre. Alla tua età, i giovanotti hanno già una solita posizione sociale. Ma tu, datti un'occhiata. Sei un proletario, un pezzente. Vivi alle spalle di tuo padre!» E al solito si misce a dire che i giovanotti di oggi si rovinano. Si rovinano per la miscredenza e il materialismo, la soverchia presunzione di che bisognerebbe vietare gli spettacoli filodrammatici poiché distolgono i giovani dalla religione e dai loro doveri. Domani andremo insieme dal direttore e tu ti scuserai con lui e gli prometterai di servire coscienziosamente, concluse. Nemmeno un giorno devi rimanere senza una posizione sociale. «Vi prego di ascoltarmi», disse io, tetro, non aspettandomi nulla di buono da questo discorso. «Quel che voi chiamate posizione sociale costituisce un privilegio del capitale dell'istruzione. La gente povera e poco istruita invece si guadagna un pezzo di pane con la fatica fisica e io non vedo ragione perché io debba fare eccezione. «Quando comincia a parlare di fatica fisica la cosa ti riesce sciocca e volgare», disse mio padre irritato. «Cerca di capire, uomo ottuso che sei, cerca di capire, testa senza cervello, che in te, oltre la brutta forza fisica, c'è anche uno spirito divino, un fuoco sacro, che in sommo grado ti distingue dall'asino o dal rettile e ti avvicina alla divinità». «Questo fuoco sacro è stato ottenuto durante migliaia di anni dai migliori degli uomini. Tuo bisnonno Poloznioff, il generale, si batte a Borudino. Tuo nonno era poeta, oratore e presidente della nobiltà, tuo zio pedagogo. Infine io, tuo padre, sono architetto. Tutti i Poloznioff hanno custodito il fuoco sacro perché tu lo spegnessi». «Bisogna essere giusti», disse io. «La fatica fisica la sopportano milioni d'uomini». «E che lo sopportino, non sanno far altro. Ognuno può attendere un lavoro fisico, anche se stupido finito e un criminale. Questo lavoro è una caratteristica dello schiavo e del barbaro, mentre il fuoco sacro è dato in appannaggio a pochi soltanto». Continuare questo discorso era inutile. Mio padre aveva il culto di sé e per lui era convincente solo quel che io stesso diceva. Inoltre sapevo assai bene che questa boria con cui si esprimeva sul lavoro manuale aveva a suo fondamento non tanto la considerazione del fuoco sacro, quanto la segreta paura che io andassi a fare l'operaio e facessi parlare di me l'intera città. Soprattutto poi, tutti i miei coetanei ormai da un pezzo avevano finito l'università ed erano sulla buona strada. Il figlio del dirigente e l'agenzia della banca di Stato era già assessore di collegio, mentre io, figlio unico, non ero niente. Continuare il discorso era inutile e spiacevole, ma io restavo seduto e obiettavo debolmente sperando che alla fine mi si capisse. Tutta la questione, infatti, era semplice e chiara e riguardava soltanto la maniera di guadagnarmi un pezzo di pane. Ma questa semplicità non la si vedeva e mi si parlava, arrotando in modo mellifulo le frasi, di Borodino, del Fuoco Sacro, dello zio, un poeta dimenticato che un tempo aveva scritto dei versi brutti e falsi e mi si dava, grossolanamente, della testa senza cervello e dell'uomo ottuso. Ah, quanta voglia avevo che mi si capisse. Nonostante tutto, a mio padre e a mia sorella io voglio bene e in me, sin dall'infanzia, si era dedicata l'abitudine di consultarli, si era dedicata con tanta forza che ben difficilmente me ne potrò mai liberare. Potrò avere ragione a torto ma temo sempre di afflizzerli. Temo, quando il magro collo di mio padre si è fatto rosso dall'agitazione, che gli venga un colpo. Star seduto in una stanza affosa, dissi io, copiare, far concorrenza a una macchina da scrivere, per un uomo della mia età è vergognoso e offensivo. Si può parlare qui di Fuoco Sacro? È pur sempre un lavoro intellettuale, disse mio padre, ma basta, tronchiamo questo discorso, in ogni caso ti avverto. Se non tornerai a impiegarti e seguirai le tue sprecevoli inclinazioni, io e mia figlia ti priveremo del nostro affetto e io ti priverò dell'eredità, lo giuro, sul nome del vero Dio. Con perfetta sincerità, per mostrare tutta la purezza dei motivi da cui volevo farmi guidare in tutta la mia vita, dissi. La questione dell'eredità per me non presenta importanza. Vi rinuncio anticipatamente. Chissà perché, in modo per me del tutto inatteso, queste parole offesero molto mio padre. Egli si imporporò tutto. Non osar parlare a me in questa maniera, babbeo, gridò con voce sottile, stridula, mascalzone. e con un moto abituale, rapido a destro, mi colpì sulla guanza una volta, poi un'altra. Ti sei messo a trascendere. Nell'infanzia, quando mio padre mi batteva, io dovevo starmene dritto, con i braccio lungo i fianchi e guardandolo in viso. Anche ora, mentre mi batteva, ero tutto smarrito e come se la mia infanzia continuasse tuttora, mi mettevo sull'attente e mi sforzavo di guardarlo dritto negli occhi. Mio padre era vecchio, magrissimo, e i suoi muscoli sottili dovevano essere forti come cighe, perché picchiava in modo assai doloroso. Io indietreggiai fino all'anticamera, ma lì egli afferrò il suo ombrello e mi colpì più volte sulla testa e sulle spalle. In questo momento, mia sorella aprì l'uso del salotto per sapere che cosa fosse quel rumore, ma subito, con un'espressione di sgomento e di pietà, si voltò in là, senza dire in mia difesa nemmeno una parola. La mia intenzione di non ritornare all'ufficio e di cominciare una vita nuova di lavoro era irremovibile. Restava solo da scegliere il genere di occupazione, ma ciò non si presentava come particolarmente difficile, poiché mi pareva di essere molto forte, resistente, atto alla più dura fatica. Mi stava dinanzi una vita monotona di lavoro, con la prospettiva della fame e di un ambiente maleodorante e rozzo, col pensiero costante del guadagno e del pezzo di pane. E che sa, tornando dal lavoro per la bolsa Yadvoryanskaya, più di una volta avrei invidiato l'ingegnere Dolzikov che viveva di lavoro intellettuale. Ma ora, il pensare a tutte queste mie future avversità era per me una gioia. Un tempo avevo sognato un'attività spirituale, immaginandomi ora insegnante, ora medico, ora scrittore, ma i sogni erano rimasti i sogni. L'inclinazione ai godimenti intellettuali, per esempio al teatro e alla lettura, era in me sviluppata sino alla passione, ma se fosse un'attitudine al lavoro intellettuale, non so. Al ginnasio avevo un'avversione invincibile per la lingua greca, tanto che mi si dovette togliere dalla quarta classe. Poi fu impiegato in diverse amministrazioni, passando la maggior parte del giorno assolutamente in ozio e mi si diceva che quello era lavoro intellettuale. La mia attività nell'ambito degli studi e del servizio non esigeva né tensione di mente né ingegno, né capacità personali, né slancio creatore dello spirito. Era cosa meccanica e un simile lavoro intellettuale io lo pongo al di sotto di quello fisico, lo disprezzo e non credo che possa valere, se non fosse che un momento, come giustificazione di una vita oziosa, spensierata, poiché esso stesso non è altro che inganno, uno degli aspetti di quell'oziosità. Con tutta vera simiglianza, il vero lavoro intellettuale io non l'avevo mai conosciuto. Sopraggiunse la sera, noi abitiamo nella Bolsia Tvozanskia, era la via principale della città e la sera, in mancanza di un giardino pubblico come si deve, ripasseggiava il nostro bel mondo. Questa magnifica via faceva le veci di un giardino, poiché ai due lati di essa crescevano dei pioppi che olezzavano specialmente dopo la pioggia e di dietro gli stecolati e i giardinetti si chinavano le acace, gli alti cespugli di lillà, i ciliegi selvatici e i meli. Il crepuscolo di maggio, il tenero verde novello con le sue ombre, il profumo del lillà, il ronzio degli scarabei, il silenzio, il tepore. Come tutto ciò era nuovo e come era straordinario benché la primavera si ripetesse ogni anno. Io stavo al portello e guardavo i passeggiatori. Insieme con la maggior parte di essi ero cresciuto e un tempo avevo fatto il monello. Ora invece la mia vicinanza le avrebbe potuti turbare perché ero vestito poveramente, non alla moda e dai miei calzoni strettissimi e dai miei stivali senza garbo si diceva che erano maccheroni su bastimenti. Inoltre avevo in città una cattiva reputazione per il fatto che mancavo di una posizione sociale e spesso giocavo al biliardo in modeste osterie. e forse anche per il fatto che due volte senza che ne avessi dato alcun motivo ero stato condotto dall'ufficiale dei gendarmi. Nel gran casamento di rimpetto dall'ingegnere Dolzikov si suonava il pianoforte. Cominciava a farsi buio e nel cielo ammicchiavano le stelle. Ed ecco che lentamente rispondendo ai saluti passò mio padre con il suo vecchio cilindro dall'ampia tesa curvata all'insù a brazzetto con mia sorella. Guarda gli diceva mia sorella indicando il cielo con quello stesso ombrello con cui di anzi mi aveva picchiato. dà un'occhiata al cielo le stelle per fine le più piccole sono tutte dei mondi com'è insignificante l'uomo a paragone dell'universo. E diceva questo con un tono tale come se fosse per lui oltremodo lusinghiero e gradito essere così insignificante. Che uomo mediocre. Purtroppo era da noi l'unico architetto e negli ultimi 15-20 anni a mia memoria non era stata costruita in città nemmeno una casa discreta. Quando gli si ordinava un progetto di solito disegnava dapprima la sala e il salotto. Come nei tempi andati i collegiali sapevano ballare solo partendo dalla stufa così anche la sua idea artistica poteva prendere lo spunto e svilupparsi solo partendo dalla sala e dal salotto. A questo aggiungeva il disegno della sala da pranzo e la camera dei bambini e dello studio unendo le stanze per mezzo di usci ed esse tutte poi risultavano inevitabilmente di passaggio e in ciascuna erano due e perfino tre usci di troppo. L'idea in lui doveva essere poco chiara oltremodo confusa e monca. Ogni volta come sentendo che gli mancava qualche cosa ricorreva a costruzioni accessorie di vario genere addossandole l'una all'altra. E io vedo come fosse adesso stretti anditini stretti corridoietti tortuose scalette che conducono mezzanini dove si può stare in piedi solo curvandosi e dove in luogo del pavimento ci sono tre enormi gradini del genere di quelli dei bagni. E la cucina è senza fallo nel sottosuolo con volte col pavimento di mattoni. La facciata ha una spessione caparbia e dura linee secche e timide il tetto basso schiacciato e sui grossi fumaioli come fatti di pasta al burro immancabilmente delle cappe di fil di ferro con nere e stridule banderuole. E chissà perché tutte queste case costruite da mio padre simili l'una all'altra mi ricordavano vagamente il suo cilindro e la sua nuca scarna e caparbia. Può passare del tempo in città si erano abituati alla mediocrità di mio padre. Essa aveva messo radici ed era divenuta il nostro stile. Questo stile mio padre l'aveva introdotto anche nella vita di mia sorella. a cominciare dal fatto che l'aveva chiamata Cleopatra come aveva chiamato me Misaill. Quando era ancora bambina la spauriva coi suoi accenni alle stelle agli antichi saggi ai nostri antenati e spiegava a lungo che cosa fosse la vita che cosa fosse il dovere e ora che l'aveva ormai 26 anni continuava a fare lo stesso permettendole di andare a brazzetto unicamente con lui e chissà perché immaginandosi che presto o tardi dovesse comparire un giovanotto a modo che l'avrebbe voluta sposare per riguardo alle qualità personali di lui e lei adorava il babbo lo temeva e aveva fede nella sua straordinaria intelligenza. Si fece buio del tutto e la via poco a poco divenne deserta. Nella casa di fronte la musica tacque si spalancò il portone e per la nostra via collegiando e facendo tintinnare dolcemente i sonagli forse veloce un tiro a tre. L'ingegnere era uscito a passeggio con la figlia. Era tempo di dormire. In casa avevo la mia camera ma io abitavo nel cortile in una casupola che aveva il tetto in comune con una rimessa di mattoni costruita chissà quando probabilmente per custodirvi i finimenti. Sui muri erano piantati dei grossi arpioni ma adesso era di troppo e mio padre ormai da 30 anni vi riponeva il suo giornale che egli chissà che scopo faceva rilegare per semestri e non permetteva a nessuno di toccare. Io abitando lì più di rado capitavo sotto agli occhi di mio padre e ai suoi visitatori e mi pareva che se non occupavo una vera camera e non andavo ogni giorno a pranzare in casa le parole di mio padre che vivevo alle sue spalle non suonassero più così offensive. Mi attendeva mia sorella di nascosto il babbo ne aveva portato la cena un pezzetto di vitella fredda e una fettina di pane. Nella nostra casa si ripeteva spesso il denaro ha mai conti la copeca fa il rublo e altre cose simile e mia sorella depressa da questi luoghi comuni si sforzava soltanto di ridurre le spese e per questo ci nutrivamo male. Ho usato il piatto sulla tavola ella si sedette sul mio letto e si mise a piangere. Misail disse che fai tu di noi? non si copriva il volto le lacrime le gocciolavano sul petto e sulle mani e aveva un'espressione afflitta si lasciò cadere sul guanciale e dia da sfogo alle lacrime sussultando in tutto il corpo e si inghozzando hai di nuovo lasciato l'impiego preferì oh com'è terribile ma capisci sorella capisci disse io e perché piangeva mi invase la disperazione come a farlo apposta nella mia lucernetta tutto il petrolio era ormai consumato l'essa fumava sul punto di spegnersi e i vecchi ampioni sui muri guardavano severi e le loro ombre vacillavano risparmiaci disse mia sorella alzandosi il babbo ha un tremendo dolore io sono malata impazzisco che sarà di te domandava singhozzando e tendendo le brazze verso di me ti prego ti supplico in nome di nostra madre buonanima ti prego torna in ufficio non posso Cleopatra disse io sentendo che ancora un poco mi sarei arreso non posso perché continuò mia sorella perché ebbene se non vai d'accordo col tuo superiore cercati un altro posto per esempio per qual ragione non andresti a impiegarti alla ferrovia poco fa ho parlato con Anita Blagovo lei assicura che alla ferrovia ti prenderebbero e ha persino promesso di brigare per te per l'amor di Dio Misail pensaci pensaci te ne supplico noi parlamo ancora un poco e io mi arresi dissi che il pensiero di un impiego nella ferrovia in costruzione non mi era ancora mai venuto in testa e che magari ero disposto a provare e la sorriscia gioiosa attraverso le lacrime mi strinse la mano e poi si guittò ancora a piangere non essendo in grado di smettere e io andai in cucina da prendere del petrolio 2 tra gli amatori di spettacoli filodrammatici di concerti e di quadri viventi a scopo di beneficenza il primo posto in città apparteneva agli asogine che abitavano in casa propria sulla bosca e a Tzoryanskaya ogni volta essi davano la sala e si assumevano anche tutte le brighi e le spese quella ricca famiglia di proprietari fondiari possedeva nel distretto circa duemila desiatine con una sontuosa villa ma non amava la compagnia e viveva d'inverno ed estate in città questa si componeva della madre una signora alta magrolina delicata che portava i capelli corti un giubbetto corto e una gonna liscia alla maniera inglese e di tre figlie che quando si parlava di loro non venivano chiamate per nome ma semplicemente la maggiore quella di mezzo e la minore tutte avevano brutti menti aguzzi erano miopi un po' curve vestite allo stesso modo della madre sgrattevolmente blese e tuttavia nonostante questo partecipavano immanchabilmente a ogni rappresentazione e facevano di continuo qualcosa a scopo benefico suonavano declamavano cantavano erano molto seri e non sorridevano mai e persino nei vaudeville con canto suonavano senza la minima gallezza con aria andaffarata come si occupassero di contabilità io amavo quegli spettacoli e specialmente le prove frequente e un pochino sconclusionate rumorose dopo le quali ci davano sempre la cena nella scelta dei lavori e nella distribuzione delle parti io non avevo alcuna ingerenza a me spettava il lavoro di retroscena dipingevo gli scenari ricopiavo le parti facevo da suggeritore truccavo gli attori e mi incombeva anche l'esecuzione di vari effetti scenici quali il tuono il canto dell'usignolo e così via poiché non avevo una posizione sociale né un vestito decente alle prove mi tenevo appartato all'ombra delle quinte e tacevo timidamente dipingevo gli scenari degli asocin nella rimessa o nel cortile mi aiutavo un decoratore o come gli si chiamava un impresario di lavori di decorazione Andrei Ivanov uomo sulla cinquantina alto molto magro e pallido colpetto infossato le tempie infossate e con le occhiaie d'aspetto fino anche un pochino pauroso era affetto da qualche malattia che lo consumava e ogni autunno e ogni primavera dicevano di lui che se ne stava andando ma egli dopo essere rimasto a letto un po' di tempo si alzava e poi diceva con meraviglia e anche questa volta non sono morto in città lo chiamavano Riedga e dicevano che era il suo vero cognome egli amava il teatro al par di me e appena gli giungeva notizia che da noi si combinava uno spettacolo subito piantava tutti i suoi lavori e veniva dagli azogin a dipingere scenari il giorno dopo la spiegazione con mia sorella io lavorai da mattina a sera dagli azogin la prova era fissata per le sette di sera e un'ora prima dell'inizio erano già giunti nella sala tutti i dilettanti e per la scena camminavano la maggiore quella di mezzo e la minore leggendo nei quadernetti riedica con un lungo pastrano rossiccio e una sciarpa avvolta intorno al collo se ne stava già con una tempia appoggiata alla parete e guardava la scena con espressione compunta la zogin madre si avvicinava ora all'uno ora all'altro ospite e diceva a ciascuno qualcosa di garbato aveva il vezzo di guardar fisso in viso e di parlar piano come in segreto deve essere difficile dipingere scenari disse piano accostandosi a me un momento fa stavo parlando con madame Mufke dei pregiudizi e vi ho visto entrare dio mio durante tutta tutta la mia vita vi ho lottato contro i pregiudizi per convincere la servitù che socchezze siano tutte queste loro paure in casa mia accendo sempre tre candele e tutte le mie faccende importanti le comincio il giorno tredici arrivò la figlia dell'ingegnere Doljikov una bionda bella e pianotta vestita tutta come da noi si diceva di roba parigina non recitava ma le prove mettevano per lei una sedia sulla scena e non cominciavano gli spettacoli prima che la comparisse in prima fila raggiante facendo stupir tutti con il suo abbigliamento a lei a lei come personaggio della capitale era concesso di fare osservazioni durante le prove e lei le faceva con un gentile condiscendente sorriso e si vedeva che le nostre rappresentazioni le considerava come un trastullo da bambini di lei si diceva che avesse studiato canto al conservatorio di Pietroburgo e che avesse perfino cantato tutto un inverno in un teatro d'opera privato mi piaceva molto e di solito alle prove durante lo spettacolo io non distoglievo gli occhi da lei avevo già preso il quaderno per cominciare a suggerire quando inaspettatamente comparve mia sorella senza togliersi il mantello e il cappellino mi si avvicinò e disse ti prego andiamo andai dietro alla scena stava sulla porta Nyuta Blagovo anche lei in cappello con una veletta scura era la figlia del presidente aggiunto del tribunale che prestava servizio nella nostra città da molto tempo quasi fin dall'istituzione del tribunale di circolo poiché era alta di statura ben fatta la sua partecipazione ai quadri viventi era considerata d'obbligo e quando ella raffigurava una qualche fata o la gloria il volto le ardeva dalla vergogna ma gli spettacoli non prendeva parte le prove veniva solo per un minutino per una qualche faccenda e non entrava nella sala anche adesso si vedeva che era passata solo per un momento mio padre ha parlato di voi disse ella asciutta senza guardarmi arrossendo Logikov ha promesso per voi un posto alla ferrovia andate da lui domani sarà in casa io mi inchinai e la ringraziai per l'interessamento ma questo lo potete lasciare disse ella indicando il quaderno lei e mia sorella si avvicinarono alla Zogin e per un paio di minuti vi sbigliarono con lei gettandomi occhiate si consigliavano su qualche cosa infatti disse la Zogin piano accostandosi a me e guardandomi fisso in viso infatti se questo vi distrae dalle occupazioni serie e la mi sfilò di mano il quaderno lo potete lasciare a qualcun altro non vi inquietate amico mio andatevene con Dio mi congedei da lei e uscii confuso scendendo giù per la scala vidi mia sorella e Anutia Blagovo che andavano via parlavano con animazione di non so che cosa certo della mia entrata alla ferrovia e avevano fretta mia sorella non era mai stata prima alle prove e ora probabilmente la coscienza la rimordeva ed ella temeva che mio padre venisse a sapere che senza il suo permesso era stata da gli azogin mi avviai da Dolzico il giorno dopo verso luna il domestico mi accompagnò in una stanza assai bella che serviva all'ingegnere da salotto e al tempo stesso da gabinetto di lavoro lì era tutto morbido elegante e per un uomo non avvezzo a ciò come me perfino strano tappeti costosi enormi soggioloni bronzi quadri fornici dorati e di velluto nelle fotografie sparse sulle pareti donne graziosissime visi intelligenti bellissimi pose spigliate dal salotto una porta dava direttamente in giardino su un balcone si vedeva una pianta di lilla si vedeva una tavola apparecchiata per la colazione con molte bottiglie un mazzo di rose si sentiva un profumo di primavera e di sigari cari un profumo di felicità e tutto pareva che volesse dire ecco quest'uomo è vissuto affaticato ha raggiunto infine la felicità che è possibile sulla terra alla scrivania stava seduta la figlia dell'ingegnere e leggeva un giornale venite da mio padre domandò sta prendendo la doccia verrà subito sedete intanto ve ne prego mi posi a sedere voi pare abitate di fronte a noi no? domandò di nuovo dopo un po' di silenzio si per la noia di ogni giorno sto a servare dalla finestra scusatemi continuò guardando nel giornale e spesso vedo voi e vostra sorella lei è sempre un'espressione così buona assorta entrò Dolznikov si asciugava il collo con l'asciugamano papà messie Polosnioff disse la figlia si si Blagovo mi ha parlato e gli si rivolse vivacemente a me senza darmi la mano ma sentite che posso darvi io che posti ho io strana gente voi signori continuò a voce alta e con tono come se mi facesse un rimbrotto di persone come voi ne vengono da me venti il giorno si sono immaginati che io abbia un ministero io ho una linea ferroviaria signori ho dei lavori forzati mi occorrono meccanici magnani sterratori palegnami scavatori di pozzi ma voi tutti sapete solo star seduti e scrivere nulla di più siete tutti scrittori anche da lui mi ispirò addosso un senso di felicità come dai suoi tappeti e dai suoi seggioloni grasso sano con le guance rosse e il petto ampio ben lavato in camicia di percalle e braconi pareva un postiglione di porcellana un gingillo aveva una barbetta rotonda e ricciuta e nemmeno un pelo bianco il naso arquato gli occhi scuri limpidi innocenti voi che cosa sapete fare seguitò nulla sapete fare io sono ingegnere sono un uomo agiato sì ma prima che mi dessero da costruire la ferrovia ho tirato a lungo la carretta ho fatto il macchinista per due anni ho lavorato nel Belgio come semplice lubrificatore giudicate voi stesso carissimo che lavoro vi posso proporre certo è così mormorai fortemente turbato non potendo sopportare lo sguardo dei suoi occhi limpidi innocenti perlomeno sapete manovrare un apparato telegrafico domandò dopo aver riflettuto sì sono stato impiegato al telegrafo hmm beh allora vedremo marcatevi per il momento a Dubechnia ne ho già uno ma è un tremendo buona nulla ma in che cosa consisteranno le mie incombenze domandai là vedremo intanto andate io darò ordine soltanto per favore da me non ubriacatevi e non seccatemi con richieste di nessun genere vi cacerei via egli si scostò da me senza far nemmeno un cenno col capo io mi inchinai a lui e a sua figlia che leggeva il giornale e uscii avevo sull'anima un tal peso che quando mia sorella si mise a domandarmi come l'ingegnere mi avesse accolto non potei pronunziare una sola parola per andare a Dubechnia mi levai di buon mattino allo spuntar del sole sulla nostra bolsa advorianskaya non c'era un'anima e tutti dormivano ancora e i miei passi risuonavano solitari e sordi i pioppi coperti di rugiada riempivano l'aria di una tenera fragranza mi sentivo triste e non avevo voglia di andarmene dalla città io amavo la mia città natia essa mi pareva così bella e cordiale amavo quel verde le calde mattine di sole il suono delle nostre campane ma gli uomini con i quali vivevo in quella città erano per me noiosi e strane e a volte perfino ripugnanti io non li amavo e non li comprendevo non comprendevo a che scopo e di chi vivessero tutte quelle 65.000 persone sapevo che Chirmi si guadagnava l'esistenza facendo stivali che Tula fabbricava a samovare e fucili che adesso era un porto ma che cosa fosse la nostra città e che cosa facesse non sapevo la Bolsa Yadworyanskaya e altre due vie un po' decorose vivevano di capitali liquidi e di stipendi che gli impiegati ricevevano dall'erario ma di che vivessero le restanti otto vie che si stendevano parallele per un treverste e sparivano dietro la collina questo era sempre stato per me un inconcepibile enigma e come vivesse quella gente è vergognoso a dire né un giardino né un teatro né un'orchestra discreta la biblioteca cittadina e quella del circolo erano frequentate solo da giovinetti ebrei così che le riviste e i nuovi libri giacevano in tonsi per mesi i ricchi e gli intellettuali dormivano in camere soffocanti anguste su letti di regno pieni di cimici i bambini li tenevano in stanze orribilmente sporche dette camere dei bambini e i servi anche vecchi e rispettabili dormivano in cucina sul pavimento e si coprivano di cenzi i giorni di grasso nelle case odrava di borse e quelli di magro di stolione fritto nell'olio di girasole si mangiava roba insipida e si beveva acqua a manzana nel consiglio comunale presso il governatore e il vescovo e dappertutto nelle case si parlava da molti anni del fatto che nella nostra città mancava un'acqua buona e a buon mercato e che era indispensabile farsi prestare dall'erario 200.000 rubli per un acquedotto uomini ricchissimi dei quali se ne potevano contare nella nostra città un tre decine e che accadeva perdesso la carta e intere proprietà bevevano anch'essi acqua cattiva e per tutta la vita parlavano con l'ardore di quel prestito e io questo non lo capivo mi pareva che sarebbe stato più semplice sborsare senz'altro quei 200.000 rubli di tasca propria in tutta la città non conoscevo una sola persona onesta mio padre si prendeva gli sbruffi e si immaginava che gliele dessero per riguardo le sue qualità morali gli studenti del ginnasio per passare da una classe all'altra si mettevano a retta dai loro insegnanti e questi facevano pagare assai caro la moglie del comandante militare al tempo della leva prendeva denaro dalle reclute permetteva perfino che le si offrissero rinfreschi e una volta in chiesa non si poteva in alcun modo levare di ginocchioni perché era ubriaca al tempo della leva pigliavano denaro anche i medici il medico municipale poi e il veterinario avevano imposto un tributo alle macellerie e alle osterie alla scuola distrettuale si trafficavano certificati che concedevano la missione alla terza categoria i sovrintendenti ecclesiastici pretendevano denaro dai preti delle parrocchie loro sottoposti e dai fabbricieri alla giunta municipale a quella artigiana alla commissione medica e in tutte le altre si gridava dietro ad ogni richiedente bisogna ringraziare e il richiedente tornava indietro per dare 30 o 40 copeche e quelli che sbruffi non ne prendevano come per esempio gli impiegati dell'amministrazione giudiziaria erano superbi davano due dita anziché la mano si distinguevano per la freddezza e la grettezza dei loro giudizi giocavano molto a carte bevevano molto sposavano donne ricche e senza dubbio avevano sull'ambiente un'influenza nociva corruttrice soltanto dalle giovinette girava la purezza morale la maggior parte di esse avevano alte aspirazioni anime oneste pure ma non comprendevano la vita e credevano che gli sbruffi si dessero per riguardo alle qualità dell'animo e dopo essersi sposate invecchiavano in fretta si lasciavano andare e si affondavano senza speranza nella melma di una piatta esistenza borghese 3 nei nostri parazzi si costruiva una linea ferroviaria la vigilia delle feste andavamo a frotte per la città degli straccioni che erano chiamati Chugunka e dei quali si aveva paura non di rado mi accadeva di veder condurre alla polizia uno straccione con la faccia insanguinata senza berretto mentre dietro a lui portavano qualche corpo del reato un samovar o della biancheria lavata da poco ancora umida la Chugunka si affollava di solito vicino alle bettole sui mercati e si beveva mangiava diceva parolazze e accompagnava con un fisco acuto ogni donna di falsi costumi che le passasse accanto i nostri bottegai per divertire questo cianciuma affamato facevano bere la vodka ai cani ai gatti oppure legavano alla coda di un cane una latta di petrolio lanciavano un fischio e il cane si dava a correre per la via facendo frastuono con la latta urlando dallo spavento mi pareva di avere le calcagne a un qualche mostro correva lontano fuori della città nei campi e l'acca di vasfinito e c'erano nella nostra città parecchi cani che tremavano di continuo con la coda fra le gambe e dei quali si diceva che non avevano potuto sopportare un tal genere di sollazzo ed erano impazziti si costruiva la stazione a cinque veste dalla città si diceva che gli insegnari avevano chiesto uno sbruffo di 50 migliaio di rubli perché la linea si accostasse molto alla città ma l'amministrazione urbana la consentiva a darne solo 40 non erano andati d'accordo per 10.000 rubli e ora i cittadini si pentivano poiché bisognava costruire fino alla stazione una strada che secondo il preventivo veniva a costare più cara su tutta la linea erano già state collocate le traversine e le rotaie che circolavano a treni di servizio che trasportavano i materiali da costruzione e gli operai ma c'era un ritardo soltanto a cagione dei ponti che costruiva Dolzikov inoltre inoltre qua e là le stazioni non erano ancora pronte Tubechnia così si chiamava la nostra prima stazione si trovava a 17 verste dalla città si andai a piedi perdeggiavano vivaci i grani autunnali e primaverili avvolti dal sole mattutino il sito era piano allegro e in distanza si disegnavano chiaramente la stazione alcuni curgani e delle case di campagna lontane come si stava bene lì all'aria libera e come volevo sentirmi penetrato dalla coscienza della libertà non fosse che per quella sola mattina per non pensare a ciò che si faceva in città per non pensare alle mie strettezze per non sentire la fame nulla mi impediva tanto di vivere quanto il senso acuto della fame quando i miei migliori pensieri si meschiamano stranamente col pensiero della cascia di grano saraceno delle costolette del pesce fritto ecco io sono solo nei campi e guardo in alto la lodola che sta sospesa nell'aria in un punto e si è messa a cantare come in un accesso isterico e intanto penso sarebbe bello ora mangiare del pane col burro oppure ecco mi metto a sedere presso la strada e chiudo gli occhi per riposarmi prestando ascolto a questo stupendo morbolio di maggio e mi viene in mente l'odore delle patate bollenti pur con la mia alta statura e la mia robusta complessione mi toccava in generale mangiare poco e perciò la mia principale sensazione nel corso della giornata era la fame e forse per questo capivo benissimo perché tanti uomini lavorassero solo per il pezzo di pane e non potessero parlare altro che di viveri a Dubechnia intonacavano la stazione all'interno e costruivano la parte superiore di legno dell'impianto per la pompa faceva caldo si sentiva odor di calcina e gli operai si aggiravano pigramente fra i mucchi di schegge e di detriti il deviatore dormiva vicino alla sua caritta e il sole lo scottava proprio in viso nemmeno un albero i fili del telegrafo ronzavano debolmente e dei nibbi mi si riposavano sopra qua e là vagando anch'io fra quei mucchi senza saper che fare mi ricordavo che un ingegnere alla mia domanda in che sarebbero consistite le mie incombenze mi aveva risposto la vedremo ma che cosa si poteva vedere in quel deserto gli stuccatori parlavano del caposquadre di un certo Fyodor Vasiliev e io non capivo e a poco a poco si impadronì di me l'angoscia l'angoscia fisica di quando si sentono le proprie braccia e le gambe e tutto il proprio corpo ma non si sa che cosa farne e dove cacciarsi dopo aver girato almeno un paio d'ore osservai che dalla stazione correvano chissà dove a destra della linea dei pali telegrafici e una vesta e mezzo o due veste di là finivano presso un bianco recinto di pietra gli operai dissero che per là c'era l'ufficio e infine riflettei che proprio là dovevo andare era una casa di campagna molto vecchia da gran tempo abbandonata il recinto di pietra bianca porosa era ormai corroso dall'aria e a tratti era crollato e su un'ala il cui muro cieco dava nei campi il tetto era rugginoso e quei là vi brillavano dei rappezzi di latta dal portone si vedeva un vasto cortile coperto del bazze e la vecchia casa padronale con le persiane alle finestre e un tetto alto rossiccio dalla ruggine ai lati della casa a destra e a sinistra sorgevano due ali uguali in una le finestre erano chiuse con assi vicino all'altra le cui finestre erano aperte della biancheria era appesa a una corda e si azziravano dei vitelli l'ultimo pallo telegrafico si innalzava nel cortile e da quello il filo correva una finestra dell'ala che col suo muro cieco dava nei campi la porta era aperta io entrai a una tavola presso l'apparato telegrafico stava seduto un certo signore con la testa bruna ricciuta in giacca di tela grossa e gli mi guardò severamente di sotto in su ma subito sorrise e disse buongiorno piccolo utile era Ivan Sheprakov mio compagno di ginnasio che era stato espulso dal secondo corso perché fumava tabacco un tempo nella stagione autunnale noi acchiappavamo insieme i cardellini i luccherini e i frisoni e li vendevamo al mercato di buon mattino quando i nostri genitori dormivano ancora stavamo a spiare i branchi degli stornelli di passaggio e tiravamo su di essi con pallini minuti poi raccoglievamo i feriti e gli uni ci morivano in casa fra terribili sofferenze ricordo tuttora come di notte gemessero nella mia gabbia e altri quelli che guarivano li vendevamo durando sfrontatamente che erano tutti maschi una volta al mercato mi era rimasto un solo stornello che offri a lungo ai compratori e infine smerciai per una copeca è pur sempre un piccolo utile mi dissi per consolarmi mettendo in tasca a quella copeca e da quel momento i monelli di strada e gli altri studenti del ginnasio mi soprannominarono piccolo utile e ancora adesso accadeva che i monelli bottegai mi stuzzicassero così sebbene tranne me nessuno più ricordasse di dove era avvenuto questo nomignolo Sheprakov non era di robusta costituzione col petto angusto un po' curvo con le gambe lunghe portava una cravatta tutta attorcigliata niente panciotto e degli stivali poi peggiori dei miei con tacchi storti di rado poi batteva gli occhi e aveva un'espressione tesa come se stesse per rafferrare qualcosa e si affannava sempre ma aspetta diceva affannandosi ma ascolta di che dunque parlavo poco fa ci mettiamo a discorrere venne a sapere che la proprietà nella quale allora mi trovavo apparteneva ancora di recente ai Sheprakov e solo nello scorso autunno era passata l'ingegnere Dolzikov il quale stimava più vantaggioso impiegare il denaro in terreni che in titoli e aveva già acquistato nei nostri paraggi tre buone proprietà rilevando nei debiti la madre di Sheprakov nelle vendite era riservata il diritto di abitare in una delle costruzioni laterali ancora per due anni e aveva ottenuto un posto per il figlio nell'ufficio e perché non dovrebbe comprare disse Sheprakov dell'ingegnere quanto prende soltanto dagli impresari scortica tutti poi mi condusse a pranzo dopo aver stabilito affannandosi che io avrei abitato insieme con lui nell'ala della casa e sarei stato ad ozzina da sua madre è una spilorcia disse ma non ti farà pagare tanto nelle piccole stanze dove abitava sua madre sarà molto allo stretto tutte perfino l'ingresso e l'anticamera erano ingombri di mobilia che dopo la vendita della proprietà era stata trasferita lì dalla casa grande ed era tutta mobilia antiquata di Mogano la signora Sheprakov una signora molto grassa attempata con gli occhi obliqui da cinese era seduta alla finestra in un gran seggiolone e faceva la calza mi accolse cerimoniosamente questo mammina è Polosnov mi presentò Sheprakov resterà servizio qui voi siete nobile? mi domanda lei con una strana sgradevole voce a me parve che in gola le gorgogliasse il grasso sì risposi accomodatevi il pranzo era cattivo servirono soltanto un pasticcio di ricotta amara e una minestra al latte Elena Nikiforovna la padrona di casa non faceva altro che strizzare in un certo modo strano ora un occhio ora l'altro ella parlava mangiava ma in tutta la sua figura se era già qualcosa di morto le pareva perfino che si sentisse odore di cadavere la vita in lei ardeva appena gli ardeva anche la consapevolezza di essere una signora proprietaria che un tempo aveva avuto i suoi servi della gleba di essere la vedova di un generale a cui la servitù era obbligata a dare dell'eccellenza e quando questi miserabili resti di vita si riaccendevano in lei per un attimo diceva al figlio Jean tu non tieni il coltello come si deve oppure parlava con me tirando penosamente il fiato con l'affettazione della padrona di casa che desidera intrattenere l'ospite e noi sapete abbiamo venduto la nostra proprietà certo ve l'incresce eravamo abituati a stare qui ma Dolzikov ha promesso di fare Jean capostazione di Tubechnia così che non andremo via di qua abiteremo nella stazione e sarà la stessa cosa come nella proprietà l'ingegnere è così buono non trovate che è molto bello ancora poco tempo prima i Sheprakov vivevano riccamente ma dopo la morte del generale tutto era cambiato Elena Nikiforovna sarà messa a litigare coi vicini sarà messa a far cause a non pagare integralmente i fattori e gli operai temeva sempre che la derubassero e in una decina d'anni Tubechnia era divenuta irriconoscibile dietro la casa grande sarà un vecchio giardino ormai rinselvaticchito soffocato dalle erbacce e dai cespugli io feci due passi sul terrazzo ancora solido e bello attraverso la porta vetri si vedeva una stanza col pavimento di legno probabilmente un salotto un antico pianoforte delle pareti delle incisioni in larghe cornici di mogano e null'altro negli aiolli di un tempo erano rimaste soltanto le pioni e i papaveri che alzavano dall'erba le loro teste bianche ed un rosso vivo per i viottoli allungandosi e intralciandosi a vicenda crescevano giovani azzeri e dolmi già piluccati dalle mucche il giardino era folto e pareva impenetrabile ma questo solo in vicinanza della casa dove ancora sorgevano pioppi pini e vecchi tigli coetanei superstiti dei viali d'un tempo più là invece il giardino era stato sacchiato per farsi il fieno e lì non c'era più a fa le ragnatelle non venivano in bocca e negli occhi soffiava un venticello quanto più ci si addentrava tanto più era lo spazio e già vi crescevano comodamente ciliegi susini e meli fronzuti sfigurati dai puntelli e dalla cancrene i peri così alti che non si poteva neppure credere che fossero peri questa parte del giardino l'avevano in affitto delle commercianti della nostra città e la guardava dai ladri e dagli stornelli un contadino scemo che viveva in una capanna il giardino sempre più diradandosi e tramutandosi in un vero prato si andeva verso il fiume coperto di canneti verdi e di salsi presso la diga del mulino c'era un'insenatura profonda e pescosa rumorezzava rabbioso un piccolo mulino col tetto di paglia gracidavano furiosamente le rane sull'acqua liscia come uno specchio si formavano ogni tanto dei cerchi e sussultavano le ninfee disturbate da qualche vispo pesce dall'altra parte del fiumicello si trovava il villaggetto di Dubechnia la placida insenatura azzurrina invitava a sé promettendo frescura e quiete e ora tutto ciò insenatura il mulino che le amenelive apparteneva all'ingegnere ed ecco che cominciò il mio nuovo impiego ricevevo i telegrammi e li inoltravo scrivevo sbagliati avvisi e ricopiavo in pulito i buoni di richiesta i reclami e i rapporti inviati al nostro ufficio da capi squadra e capimastri analfabeti ma la maggior parte del giorno non facevo nulla e camminavo per la stanza aspettando i telegrammi oppure mettevo nella casetta un ragazzo e io me ne andavo in giardino e passeggiavo finché il ragazzo non corrisse a dirmi che l'apparato ticchettava pranzavo presso la signora Shevrakov la carne era servita assai di rado le vivande erano sempre a base di latte il giovedì poi e il venerdì si mangiava di magro e in quei giorni si servivano in tavola dei piatti rosei che si chiamavano piatti di magro la Shevrakov strizzava continuamente gli occhi era una sua abitudine e in sua presenza mi sentivo ogni volta a disagio poiché il lavoro nella casetta non bastava nemmeno per uno Shevrakov non faceva niente e dormiva soltanto o se ne andava col fucile all'insenatura del fiume a tirare alle alatre la sera si sborniava al villaggio alla stazione e prima di andare a dormire si guardava in uno specchietto e gridava salute Ivan Shevrakov ubriaco era pallidissimo e non faceva altro che fregarsi le mani e ridere come se nitrisse iiii iiii per bravata si spogliava del tutto e correva nudo per i campi mangiava le mosche e diceva che erano acidule 4 una volta dopo pranzo giunse di corso nella casetta canzando e disse vieni è arrivata tua sorella uscì in realtà presso la scaletta esterna della casa grande stava un carruzzino da nolo della città era arrivata mia sorella e con lei Agniuta Blagovo e anche un certo signore in tunica militare attomi più vicino riconobbi il militare era il fratello di Agniuta dottore siamo venuti da voi per una merenda disse egli non vi spiace mia sorella e Agniuta volevano domandare come me la passassi lì ma tacevano tutte e due e mi guardavano soltanto tacevo anch'io avevano capito che star lì non mi piaceva e a mia sorella spuntarono le lacrime mentre l'unica Blagovo si fece rossa andamo in giardino il dottore camminava avanti a tutti e diceva con entusiasmo questa sì è aria madre purissima questa sì è aria all'aspetto esteriore era ancora un velo studente parlava e camminava come uno studente e lo sguardo dei suoi occhi grigi era vivace semplici aperto come quello di un buon studente accanto a lui la sua alta e bella sorella pareva debole esile anche la sua barbetta era esile e la voce del pari esile tenorile abbastanza piacevole peraltro prestava servizio non so dove al reggimento e adesso era venuto in licenza dei suoi e diceva che in autunno sarebbe andato a Pietroburgo a far gli esami di dottore in medicina aveva già famiglia propria moglie e tre figli si era sposato presto quando era ancora nel secondo corso e ora in città si raccontava di lui che era sfortunato nella vita familiare e non viveva più con la moglie che ore sono si inquietò mia sorella dovremmo tornare un po' presto il babbo mi ha lasciato venire dal fratello per restare solo fino alle sei ma quel vostro babbo sospirò il dottore io accesi il samovar prende moltesso un tappeto davanti al terrazzo della casa grande il dottore stando a ginocchioni deveva dal piattino e diceva di provare la beatitudine poi Shefrakov andò a prendere la chiave e aprì la porta a vetri e noi tutti entrammo in casa qui c'era oscurità e mistero c'era odor di funghi e i nostri passi rimbombavano come se sotto il pavimento ci fosse una cantina il dottore stando in piedi toccò i tasti del pianoforte e questo gli rispose devolmente con un accordo tremulo rocco ma ancora armonioso e gli provò la voce e cantò non so che romanza accegliandosi e pestando il piede con impazienza allorché qualche tasto era muto mia sorella non si disponeva più a rincasare ma camminava agitata per la stanza dicendo sono allegra molto molto allegra nella sua voce si sentiva la meraviglia come se ne paresse incredibile che anche lei poteva avere l'anima contenta per la prima volta la vedevo così allegra era perfino embellita di profilo era brutta il naso e la bocca le sporgevano in fuori con un'espressione come se soffiasse ma aveva bellissimi occhi scuri un colorito pallido assai delicato un'aria commovente di bontà e di tristezza e quando parlava pariva graziosa e perfino bella tutti e due io e lei somigliavamo a nostra madre larghi di spalla forti e resistenti ma il suo pallore era malatizzo e la tossiva spesso e nei suoi occhi lo sorprendevo a volte l'espressione che sogliono avere le persone che sono seriamente malate ma che per qualche motivo lo tengono nascosto nella sua presente allegrezza era un chied infantile d'ingenuo come se la gioia che al tempo della nostra infanzia si reprimeva e si soffocava in noi con un'educazione severa se si fosse ora a un tratto ridestata nell'anima e ne fosse balzata fuori ma quando si progiunse la sera e i cavalli furono fatti accostare mia sorella si chetò fece un viso lungo e salì nel carrozzino con un aspetto come se quello fosse il banco degli accusati ecco che tutti sono partiti il rumore si è chetato mi ricordai che Anita Blagovo in tutto quel tempo non mi aveva detto nemmeno una parola meravigliosa fanciulla pensai meravigliosa fanciulla venne il digiuno di San Pietro e si mangiava di magro ormai ogni giorno per l'ozio e per l'incertezza del mio stato mi opprimeva un'angoscia fisica e io scontento di me fiacco affamato tirellavo per la via e attendevo solo una disposizione di spirito propizia per andarmene una volta verso sera mentre nella nostra razza eralietica entrò ad improvviso Dolzikov fortemente bronzato dal sole e grigio di polvere aveva passato tre giorni nel suo settore e adesso era arrivato a Dubecenia sulla locomotiva e dalla stazione era venuto da noi a piedi in attesa della carrozza che doveva giungere dalla città e gli fece col suo fattore il giro della villa dando ordini ad alta voce poi per un'ora intera rimase da noi nella casetta e scrisse non so che lettere mentre era lì arrivavano dei telegrammi a suo nome ed egli stesso batteva le risposte noi tre stavamo silenziosi sull'attenti che disordine disse gettando un'occhiata schizzinosa a suo avviso tra due settimane trasferirò l'ufficio alla stazione e non saprò più che farmene di voi signori io faccio del mio meglio a vostra nobiltà proferisce Vrakov già già vedo come fate del vostro meglio sapete soltanto riscuotere lo stipendio continuò l'ingegnare guardandomi voi sperate nella protezione per faire la carrière nel modo più rapido e facile ma io non baderò alla protezione per me nessuno ha brigato prima che mi dessero questa linea ho fatto il macchinista ho lavorato nel Belgio come semplice lubrificatore e tu Panterei che cosa fai qui domandò voltandosi verso l'etica gli ubriachi con loro tutte le persone del popolo chissà perché li chiamava Panterei e quelli come me e Sheprakow li disprezzava e dietro le spalle dava loro dell'ubriacone della bestia della canaglia in generale quei piccoli impiegati era crudele li multava e li cacciava dell'impiego freddamente senza spiegazioni giunsero infine i cavalli per lui a modico miato promise di licenziarsi tutti tra due settimane via dal fattore del tanghero e poi sdraiatoci nella carrozza partì per la città Andrea Ivanec dissi io a Riedka prendetemi con voi come operaio beh perché no e ci avviamo insieme in direzione della città quando la stazione e la villa furono lontane dietro di noi domandai Andrea Ivanec perché poco fa siete venuto a Dubesnia in primo luogo i miei ragazzi lavorano sulla linea e in secondo luogo sono venuto dalla generalessa a pagarle degli interessi l'anno scorso presi da lei un mezzo centinaio di rubli e ora le pago un rublo al mese il decoratore si fermò e mi afferrò per un bottone misail Alexiaiz angelo nostro seguitò così la penso c'è un uomo del popolo un signore prende il benché minimo interesse quello è già un malfattore in un uomo simile non può esserci verità scarno pallido terribile Riedka chiuse gli occhi scosse la testa e pronunciò col tono di un filosofo il gorgoglione mangia l'erba la ruggina il ferro e la menzogna l'anima signore salva noi peccatori 5 Riedka non era un uomo pratico e non sapeva ponderare bene ammassava più lavoro di quanto ne potesse eseguire e nel regolare i conti si inquietava si smarriva e perciò era quasi sempre in perdita e gli dava le tinte metteva i vetri tappezzava assumeva perfino i lavori di copertura dei tetti e io ricordo come egli per un'ordinazione da nulla solesse correre per tre giorni cercando dei copritetto era un eccellente artigiano gli accadeva qualche volta di guadagnare fino a 10 rubli il giorno e se non fosse stato quel suo desiderio di essere a tutti i costi capo di azienda e di chiamarsi impresario probabilmente l'avrebbe avuto per le mani dei bei denari lui riscuoteva il lavoro finito invece me e gli altri garzoni ci pagava a giornata da 70 copecche a un rubro al giorno finché durava il tempo caldo e asciutto noi facevamo diversi lavori all'aperto soprattutto verniciavamo i tetti per mancanza d'abitudine i piedi mi bruciavano come se camminassi su una lastra arroventata e quando calzavo le scarpe di feltro si sentivano troppo allo stretto ma questo solo nei primi tempi poi mi abituai e tutto andò liscio come un olio vivevo ora fra uomini per i quali la fatica era obbligatoria e inevitabile e che lavoravano come cavalli da tiro spesso senza coscienza del significato morale del lavoro e persino senza mai usare nei loro discorsi la parola lavoro accanto ad essi anch'io mi sentivo un cavallo da tiro penetrandomi sempre più nel carattere obbligatorio e inevitabile di ciò che facevo e questo mi agevolava la vita liberandomi da ogni dubbio nei primi tempi tutto mi interessava ora era nuovo come se fossi rinato potevo dormire per terra potevo andare scalzo e questo era oltremodo piacevole potevo stare in mezzo alla folla del popolino senza dar soggezione ad alcuno e quando sulla via cadeva il cavallo di una vettura di piazza accorrevo e aiutavo a rialzarlo senza timore di insudiciarmi il vestito ma soprattutto vivevo per mio proprio conto e non ero di peso a nessuno la verniciatura dei tetti specialmente con il nostro olio di lino e il nostro colore era stimato un affare assai vantaggioso e perciò questo lavoro grossolano e noioso non lo disdegnavano nemmeno dei buoni artigiani come Rietka in calzoncini corti con le scarne gambe violazze egli camminava sul tetto simile a una cicogna e io sentivo come egli lavorando di pennello respirava affannosamente e diceva guai guai a noi peccatori un tetto camminava così liberamente come su un pavimento perché fosse malato e pallido come un morto aveva un'agilità straordinaria al pari dei giovani dipingeva il cupolone e le cupole di una chiesa senza impalcatura soltanto con l'aiuto di scale e di una fune e si aveva un pochino di paura quando egli stando lassù in alto lontano dal suolo si drizzava in tutta la sua statura e sentenziava non si sa per chi il gorgoglione manza l'erba la ruggine il ferro e la menzogna l'anima oppure pensando a qualche cosa rispondeva ad alta voce ai suoi pensieri tutto può essere tutto può essere quando tornavamo a casa dal lavoro tutti quelli che erano seduti ai portoni sulle panchine tutti i commessi i ragazzini e i loro padroni vi lanciavano dietro varie osservazioni schietrevoli e maligne e questo nei primi tempi mi rimescolava e mi pareva semplicemente mostruoso piccolo utile si odiva da tutte le parti in bianchino terra d'ocra e nessuno mi trattava in modo così poco misericordioso come per l'appunto quelli che ancora tanto di recente erano stati essi stessi dente del popolo e si erano procalciato un pezzo di pane col lavoro manuale nei banchi del mercato quando passavo davanti alla bottega di ferramenta come per inavvertenza mi innaffiavano d'acqua e una volta mi scagliarono perfino un bastone e un venditore di pesce vecchio canuto mi sbarro la strada e disse guardandomi con astio tu stupido non fai pena fa pena tuo padre e i miei conoscenti incontrandomi non so perché restavano confusi gli uni mi consideravano come uno stravagante e un buffone altri mi compativano altri ancora non sapevano come comportarsi con me ed era difficile capirli una volta di giorno in una delle viuzze presso la nostra boschia d'Orianskaya incontrai Anjuta Blagovo io andavo al lavoro e portavo due lunghi pennelli e un secchio pieno di tinta riconosciutomi Anjuta avampò in viso vi prego non salutatemi per via la ferina nervosa e severa con voce tremante senza portermi la mano e negli occhi le brillavano un tratto le lacrime se tutto questo secondo voi è proprio necessario sia sia pure ma vi prego non fermatevi con me io non abitavo più sulla bolsa d'Orianskaya ma nel subborgo di Markarice presso la mia bambinaia Karpovna una buona ma tetra vecchietta che presentiva sempre qualcosa di brutto aveva paura di tutti i sogni in generale e perfino nelle api e nelle vespe che lavoravano dentro la stanza vedeva cattivi presagi anche il fatto che io ero diventato operaio ma per il suo non presagiva nulla di buono sei rovinata la tua testolina diceva con tristezza scotendo il capo sei rovinata abitava con lei nella casetta il suo figlio adottivo Procofi macellaio un giovane sulla trentina enorme e goffo grossiccio con baffi ispidi egli incontrandosi con me nell'andito mi cedeva il passo in silenzio rispettosamente e se ero ubriaco con tutte e cinque le dita mi faceva il saluto militare la sera cenava e attraverso il tramezzo di assi potevo sentirlo raschiare e sospirare mentre vuotavo un bicchierino dietro l'altro mammina chiamava sottovoce beh rispondeva la karpovna chiamava perdutamente il suo figlio adottivo che c'è figliolino io mammina con voi potrò essere compiacente nella vita terrena vi sostenterò in vecchiaia in quella valle di lacrime e quando morirete vi seppellirò a mie spese l'ho detto ed è vero io mi levavo ogni giorno prima dello spuntar del sole e mi coricavo presto noi decoratori mangiavamo moltissimo e dormivamo sodo soltanto non so perché la notte mi batteva forte il cuore con i compagni non litigavo le parolacce i giuramenti forzennati e gli auguri del genere per esempio se ti scoppiassero gli occhi o che ti cogliesse il colera non cessavano durante l'intera giornata ma non di meno fra noi si andava pur sempre d'accordo i garzoni sospettavano in me un settario religioso e si burlavano bonariamente di me dicendo che perfino mio padre mi aveva rinnegato e subito dopo raccontavano che quanto a loro di rado facevano capolino nel tempio di Dio e che molti di essi per dieci anni non si erano confessati e si fatto loro sviamento lo giustificavano col dire che il decoratore è fra gli uomini ciò che la gracchia è fra gli uccelli i garzoni mi stimavano e mi trattavano con rispetto allora evidentemente piaceva che io non bevessi non fumassi e facessi vita tranquilla assennata mi urtava sgradevolmente solo il fatto che non partecipavo al furto dell'olio di lino e non andavo insieme con loro dai clienti a chiedere la manza rubare l'olio ai colori del padrone era per i decoratori un'usanza e non si considerava come un furto ed era degno di nota che perfino un uomo così giusto come Riedka andandosene al lavoro portasse via con sé ogni volta un po' di biacca e di olio a chiedere la manza poi non si vergognavano nemmeno dei vecchi rispettabili che avevano amacarici a case proprie e si provava dispetto e vergogna quando i garzoni in frotta si congratulavano con qualche persona da nulla all'inizio al termine dei lavori e ricevuto un eungrivening che ringraziavano umilmente i clienti si comportavano da scaltri cortigiani e a me quasi ogni giorno veniva in mente il polonio di Shakespeare probabilmente pioverà diceva il cliente guardando il cielo pioverà pioverà di sicuro consentivano i decoratori però le nuvole non sono da pioggia magari non pioverà non pioverà signoria certo non pioverà dietro le spalle parlavano dei clienti per lo più ironicamente e quando per esempio vedevano un signore seduto sul balcone con un giornale osservavano legge il giornale ma non ha da mangiare credo a casa dei miei non andavo tornando dal lavoro trovavo spesso nella mia stanza dei biglietti brevi e trepidi nei quali mia sorella mi scriveva del babbo ora pranzo era stato particolarmente soprapensiero e non aveva mangiato nulla ora aveva vacillato ora sarà chiuso in camera sua e per lungo tempo non era uscito le notizie mi agitavano non potevo dormire e cadeva perfino che passassi la notte per la volskaya dvonianskaya davanti a casa nostra scrutando le finestre buie e cercando di indovinare se in casa tutto andasse per bene la domenica veniva da me mia sorella ma di soppiatto come se non venisse da me ma dalla bambiraia e se entrava da me era pallidissima con occhi lacrimosi e subito cominciava a piangere nostro padre non sopporterà questo diceva se Dio non voglia gli accadrà qualcosa la coscienza ti tormenterà per tutta la vita è terribile Miseil e in nome di nostra madre ti supplico ravvediti sorella mia cara dicevo io come ravvedermi se sono convinto di agire secondo coscienza capiscimi so che agisci secondo coscienza ma forse si potrebbe fare in qualche altro modo per non affliggere nessuno oh mamma mia sospirava dietro l'usciola vecchia c'è rovinata la sua testolina succederà una disgrazia miei cari succederà una disgrazia 6 una domenica comparve inaspettatamente da me il dottor Blagovo portava la tunica sopra la camicia di seta e alti stivali verniciati vengo da voi cominciò stringendomi forte la mano alla studentesca ogni giorno sento parlare di voi e mi accingo sempre a venire per chiacchierare un poco come si dice a cuore aperto in città la noia è spaventosa non c'è anima viva non uno col quale dire una parola fa callo madre purissima continuò levandosi la tunica e restando con la sola camicia di seta colombello permettetemi di discorrere con voi anch'io mi annoiavo e già da un pezzo avevo voglia di trovarmi con gente diversa dai decoratori fui sinceramente lieto di vederlo comincerò da questo disse egli ponendosi a sedere sul mio letto che con tutta l'anima provo simpatia per voi e apprezzo profondamente questa vostra vita qui in città non vi capiscono e non c'è nessuno che vi possa capire perché lo sapete anche voi con pochissime eccezioni qui sono tutti musi di porco come quelli di Gogol ma io vi decifrai di colpo quel giorno stesso alla merenda voi siete un'anima nobile un uomo onesto elevato vi apprezzo e stimo un grande onore stringervi la mano seguitò con entusiasmo per cambiare in modo così netto e brusco la vostra vita come avete fatto voi era necessario attraversare un complesso sviluppo morale e per continuare adesso questa vita ed essere costantemente all'altezza delle proprie convinzioni voi dovete giorno per giorno compiere un intenso lavoro con la mente e col cuore e ora per cominciare la nostra conversazione ditemi non siete dell'avviso che se questa vostra forza e questa tensione tutto questo potere voi li aveste spesi in qualche altra cosa ad esempio per diventare col tempo un grande scienziato o d'artista la vostra vita avrebbe avuto una più larga e profonda portata e sarebbe stata in tutti i sensi più produttiva ci mettiamo a discorrere e quando il nostro discorso cadde sulla fatica fisica io espressi questo pensiero è necessario che i forti non asserviscono i deboli che la minoranza non sia per la maggioranza una parassita e una pompa che ne succhia cronicamente le linfe migliori cioè è necessario che tutti senza excezione forti e deboli ricchi e poveri partecipino in ugual misura alla lotta per l'esistenza ciascuno per se stesso e a questo riguardo non c'è miglior mezzo di livellamento che il lavoro fisico quale servizio generale obbligatorio per tutti dunque secondo voi a un lavoro fisico devono attendere tutti senza excezione domandò il dottore sì e non siete d'avviso che se tutti compresi nel numero anche gli uomini migliori i pensatori e i grandi scienziati partecipando alla lotta per l'esistenza ciascuno per se stessero a perdere tempo nello spaccar pietre e nel verniciar tetti un serio pericolo potrebbe minacciare il progresso e dov'è il pericolo domandai il progresso consiste pure negli atti di amore nell'adempimento della legge morale se voi non asservite nessuno non siete a carico di nessuno di che altro progresso avete bisogno ma permettete si infiammò ad un tratto blago alzandosi ma permettete se la lumaca nel suo guscio si occupa del proprio perfezionamento e si gengilla con la legge morale questo voi lo chiamate progresso perché poi si gengilla mi offesi io se voi non costringete il vostro prossimo a mantenervi vestirvi trasportarvi difendervi dai amici non è forse questo in una vita fondata tutta sulla schiavitù un progresso secondo me questo è il progresso più vero e magari l'unico possibile e necessario per l'uomo i limiti del progresso umano generale universale sono nell'infinito e parlare di un certo progresso possibile limitato dai nostri bisogni o dalle nostre concezioni passeggere questo scusate è perfino strano i limiti del progresso sono nell'infinito come voi dite allora vuol dire che i suoi scopi sono indefiniti dissi io è vivere e non sapere in modo preciso per cosa si viva e sia ma questo non sapere è meno triste del vostro sapere io vado su per una scala che si chiama progresso civiltà cultura vado e vado senza sapere in modo preciso dove io vada ma in verità solo per questa meravigliosa scala mette conto di vivere voi invece sapete perché cose vivete perché gli uni non asserviscano gli altri perché il pittore e quello che gli trita e i colori pranzino allo stesso modo ma questo è il lato borghese culinario e grigio della vita e vivere soltanto per esso non è forse ripugnante se certi insetti ne asserviscono altri che il diavolo li porti si divoriano pure a vicenda non a loro noi dobbiamo pensare tanto essi moriranno e marceranno ugualmente comunque cercate di salvarli dalla schiavitù dobbiamo pensare a quella grande incognita che attende tutta l'umanità in un lontano futuro Blagovo discuteva con me calorosamente ma nello stesso tempo si poteva notare che lo agitava un qualche pensiero estraneo probabilmente vostra sorella non verrà disse dopo aver guardato l'orologio ieri fu dai nostri e disse che sarebbe stata da voi voi dite sempre schiavitù schiavitù seguitò ma questa è una questione privata e tutte le questioni simili si risolvono dall'umanità gradualmente di per sé ci mettiamo a parlare della gradualità io dissi che il problema di fare il bene o il male ciascuno lo risolve da sé senza aspettare che l'umanità si accosti alla soluzione di questo problema per la via di uno sviluppo graduale inoltre la gradualità è un'arma a due tagli accanto al processo di graduale sviluppo delle idee umanitarie si osserva anche la crescita graduale di idee di un altro genere non c'è più la servitù della gleba in cambio cresce il capitalismo e in pieno rigoglio di idee emancipatrici la maggioranza allo stesso modo che ai tempi di Baty mantiene veste e difende la minoranza rimanendo le stesse famelica malvestita e indifesa un tal ordine di cose si accorda magnificamente con qualsivoglia tendenza e corrente perché si coltiva in modo graduale anche l'arte dell'asservimento noi non frustiamo più nella scuderia i nostri domestici ma diamo alla schiavitù forma raffinata o perlomeno ne sappiamo trovare una giustificazione in ogni singolo caso da noi le idee sono idee ma se adesso alla fine del XIX secolo si potessero riversare sugli operai fino anche le nostre più sgradite funzioni fisiologiche noi le riverseremmo e poi certo diremmo a nostra giustificazione che se gli uomini migliori i pensatori e i grandi scienziati stessero perdere il loro prezioso tempo in queste funzioni allora un serio pericolo potrebbe minacciare il progresso ma ecco che arrivò anche mia sorella vedendo il dottore si affannò si turbò e si mise subito a dire che per lei era tempo di andare a casa dal babbo Cleopatra Alexiaevna disse Blagovo in tono persuasivo premendosi tutte e due le mani al cuore che succederà al vostro bambino se voi passerete con me e con vostro fratello una mezz'oretta e gli era schietto e sapeva comunicare agli altri la sua animazione mia sorella dopo aver riflettuto un momento scoppiò a ridere e si fece allegra di colpo subitamente come quel giorno alla merenda andammo nei campi e dispostici sull'erba continuammo la nostra conversazione guardando verso la città dove tutte le finestre rivolte a occidente parivano di oro vivo a cagione del sole che tramontava dopo di allora ogni volta che veniva da me mia sorella compariva anche Blagovo e tutte e due si salutavano con un'aria come se il loro incontro presso di me fosse casuale mia sorella ascoltava discutere a me e il dottore e intanto aveva un'espressione gioiosamente entusiastica commossa e scrutatrice e a me pareva che dinanzi ai suoi occhi si stesse aprendo a poco a poco un altro mondo che la prima non aveva mai visto nemmeno in sogno e che ora si sforzava di indovinare in assenza del dottore era silenziosa e mesta e se ora a volte piangeva seduta sul mio letto era ormai per motivi dei quali non parlava in agosto Riedka ci ordinò di prepararsi ad andare sulla linea un paio di giorni prima che ci cazzassero fuori di città venne da me mio padre e gli sedette e senza fretta senza guardarmi si asciugò il viso rosso poi cavò di tasca il nostro messaggero cittadino e lentamente accentuando ogni parola lesse che un mio coetaneo il figlio del dirigente dell'agenzia della banca di stato aveva avuto la nomina capodivisione dell'intendenza di finanza e ora dati uno sguardo disse piegando il giornale tu sei un mendicante un pezzente un mascalzone persino i borghesi e i contadini ricevono un'istruzione per diventare uomini e tu un po' lo snioff che hai degli illustri e i nobili antenati ti precipiti nel fango ma non sono venuto qui a discutere con te più di te ho già fatto una croce continuò con voce strozzata alzandosi sono venuto per sapere dov'è tua sorella mascalzone è andata via di casa dopo pranzo ormai sono le sette passate e lei non c'è si è messa a uscire il suo vento senza dirmelo si è fatta meno rispettosa e io vedo qui il tuo cattivo ignobile influsso dov'è? nelle sue mani c'era l'ombrello a me noto e già mi ero smarrito e messo sull'attenti come uno scolaretto aspettando che mio padre cominciasse a battermi ma egli notò lo sguardo da me gettato all'ombrello e probabilmente questo lo trattenne vivi come vuoi disse io ti privo della mia benedizione oh padri santi mormorava dietro luce la bambinaia oh povera disgraziata la tua testolina oh il mio cuore ha un presentimento ha un presentimento io lavoravo sulla linea tutto agosto piove di continuo il tempo era umido e freddo dai campi non era stato ritirato il grano e nelle grandi proprietà dove si mieteva con le macchine il frumento giaceva non a covoni ma a mucchi e io rammento che quei malinconici mucchi ogni giorno si facevano più scuri e i chicchi vi germogliavano lavorare era faticoso le acquazzoni guastavano tutto ciò che riuscivamo a fare di abitare e dormire negli edifici della stazione non ci era consentito e noi cercavamo un asilo nelle sporche umide capanne di terra dove nell'estate aveva abitato la kugunka e la notte io non potevo dormire per il freddo e perché sul viso e sulle mani mi strisciavano i porcellini di terra e quando lavoravamo vicino ai ponti la sera veniva da noi a frotta la kugunka soltanto per picchiare i verniciatori era questo per essa una specie di sport ci picchiavano ci rubavano i pennelli e per stuzzicarsi e provocarsi a rissa guastavano il nostro lavoro per esempio imbrattavano le garitte di verde per colmo di tutti i nostri guai Riedka cominciò a pagarsi nel modo più irregolare tutti i lavori di verniciatura nel settore erano stati affidati a un impresario questi li aveva ceduti a un altro e questo infine a Riedka riservandosi il 20% il lavoro per se stesso era svantaggioso e per giunta c'erano le piogge il tempo andava perduto inutilmente noi non lavoravamo e Riedka era obbligato a pagare le giornate ai garzoni i verniciatori affamati per poco non lo picchiavano gli davano dell'improlione della sanguisuga del giuda venditore di Cristo e lui il poverazzo sospirava levava disperato le mani al cielo e non faceva altro che andare dalla signora Sheprakov in cerca di denari e non faceva altro 7 sopravvenne l'autunno piovoso fangoso scuro venne la disoccupazione e io per tre giorni la settimana me ne stavo a casa inoperoso o eseguivo diversi lavori non da decoratore per esempio trasportavo terra in un palco morto ricevendo per questo una doppia grivina al giorno il dottor Blagovo era partito per Pietroburgo mia sorella non veniva da me Riedga giaceva in casa malato aspettando di giorno in giorno la morte anche il mio umore era autunnale forse perché diventato operaio vedevo ormai la nostra vita di città soltanto alla rovescia quasi ogni giorno mi toccava fare scoperte che mi riducevano addirittura alla disperazione quei miei cittadini su quali prima non avevo alcuna opinione o che dal lato esteriore ci presentavano come del tutto per bene ora si rivelavano gente bassa crudele capace di ogni infamia noi gente del popolo ci ingannavano ci defraudavano sul conto ci facevano attendere per ore intere negli ingressi freddi o in cucina ci offendevano e si comportavano con noi nel modo più villano nell'autunno al nostro circolo tappezzai la sala di lettura e due stanze mi pagarono in ragione di sette copie quel rotolo ma mi ordinarono di far la quietanza per dodici e quando io ricusai di farlo un signore di bell'aspetto con gli occhiali d'oro probabilmente uno dei capi del circolo mi disse e tu mascalzone farai ancora molti discorsi ti romperò il muso e quando il servo gli bisbigliò che era il figlio dell'architetto Polosnioff si confuse arrossì ma subito si riprese e disse che il diavolo lo porti nelle botteghe a noi operai spacciavano carne passata farina stantia e te già adoperato in chiesa la polizia ci prendeva a spintoni e negli ospedali gli aiuti medici e le infermiere ci derubavano e se noi per povertà non davamo loro lo sbruffo per rappresaglia ti facevano mangiare nei piatti sporchi alla posta il più modesto degli impiegati si stimava il diritto di trattarsi come animali e di gridare in modo grossolano insolente aspetta dove ti cacci? perfino i cani da cortile perfino quelli si comportavano con noi ostilmente e ci si gettavano addosso con una rabbia particolare ma soprattutto ciò che più mi colpiva nella mia nuova condizione era l'assoluta mancanza di giustizia precisamente ciò che fra il popolo si definisce con la parola hanno dimenticato Dio rari giorni passavano senza una truffa truffavano e i mercanti che ci vendevano l'olio di lino e gli impresari e i garzoni e gli stessi clienti si intende a sé che non si poteva nemmeno far parola dei nostri diritti e i denari da noi guadagnati dovevamo ogni volta mendicarli come un'elemosina stando alla porta di servizio senza berretto in capo io tepezzavo il circolo una delle stanze attigue alla sala di lettura una sera quando già mi disponevo ad andare via entrò in quella stanza la figlia dell'ingegnere Doznikov con un fascio di libri tra le mani io le feci un inchino ah buonasera disse ella avendomi subito riconosciuto e tendendomi la mano felicissima di vedervi e la sorrideva e osservava curiosa e perplessa il mio camiciotto il secchio della colla la tappezzeria distesa sul pavimento io mi turbai e anche lei si sentì a disagio scusate se vi guardo così disse mi hanno parlato molto di voi specialmente il dottor Blagovo è addirittura innamorato di voi anche con vostra sorella ho già fatto conoscenza è una cara simpatica ragazza ma in nessun modo l'ha potuta convincere che nella vostra semplificazione di vita non c'è nulla di terribile al contrario voi siete ora la persona più interessante della città guardò di nuovo il secchio della colla la tappezzeria e continuò avevo pregato il dottor Blagovo di farmi fare più stretta conoscenza con voi ma evidentemente se ne è dimenticato non ha avuto il tempo comunque sia ora ci conosciamo e se voi favoriste da me senza cerimonie ve ne sarei oltremodo obbligata ho tanta voglia di discorrere un poco io sono una persona semplice disse tendendomi la mano e spero che da me non sarete in soggezione mio padre non c'è è a Petroburgo e la se ne andò nella sala di lettura facendo frusciare il vestito e io tornato a casa per lungo tempo non mi potei addormentare in quello stesso poco allegro autunno una qualche anima buona desiderando evidentemente alleviare non fosse che per un poco la mia esistenza mi mandavo ogni tanto ora del tè e dei limoni ora dei biscotti ora delle starne arrosto Akapov la diceva che queste cose le portava ogni volta a un soldato ma da parte di chi non si sapeva e il soldato domandava se stavo bene se pranzava ogni giorno e se aveva un vestito pesante quando sopraggiunse il gelo mi fu mandata allo stesso modo in mia assenza e per mezzo del soldato una morbida sciarpa di maglia dalla quale emanava un delicato appena percettibile odore di profumi e io indovinai chi fosse la mia buona fata la sciarpa odorava di mughetto e il profumo preferito di Anyute Blagovo verso l'inverno il lavoro aumentò e diventammo più allegri Riedka si rianimò e noi lavorammo insieme nella chiesa del cimitero dove si raschiava l'iconostasi per la doratura era un lavoro pulito tranquillo e come dicevano i nostri redditizio in un giorno si poteva fare molto lavoro e inoltre il tempo correva veloce inavvertito né parolacce né risate né discorsi rumorosi il luogo stesso obbligava il silenzio alla compostezza che disponeva a calmi seri pensieri immersi nel lavoro stavamo ritti o seduti immobili come statue c'era un silenzio di morte come si addice a un cimitero cosicché se cadeva uno strumento crepitava la fiamma ad una lampada questi suoni eccheggiavano con un rumore sordo e secco e noi ci voltavamo a guardare dopo un lungo silenzio si udiva un ronzio come se volassero delle api presso il portico senza fretta a mezza voce si cantava la messa funebre per un bimbo o un pittore che dipingeva sulla cupola una colomba o attorno ad essa delle stelle cominciava a fischiettar piano e riprendendosi si chietava subito orietica rispondendo ai propri pensieri diceva con un sospiro tutto può essere tutto può essere o sopra le nostre teste e cheggiava un lento lugubre scampanio i decoratori osservavano che probabilmente stavano portando un defunto ricco io passavo le giornate in quel silenzio nella penombra della chiesa o nelle lunghe sere giocavo a biliardo o andavo a teatro in loggione col vestito nuovo di maglia che mi ero comprato coi denari guadagnati agli azogin erano già cominciati gli spettacoli e i concerti i scenari li dipingeva ora il solo rietica e gli mi riferiva al soggetto dei lavori e dei quadri viventi che gli veniva fatto di vedere dagli azogin e io lo ascoltavo con invidia mi sentivo fortemente attirato dalle prove ma non mi risolvevo ad andare dagli azogin una settimana prima di Natale arrivò il dottor Blagevo e noi tornamo a discutere e la sera giocavamo a biliardo egli giocando si toglieva la giubba e si sbottonava la camicia sul petto e in generale cercava non so perché di darsi l'aria di un crapulone sfrenato beveva poco ma in modo rumoroso e in una trattoria così scadente ed economica come il Volga si ingegnava di lasciare venti rubli ogni sera mia sorella tornò a venire da me tutte e due vedendosi l'un l'altra facevano ogni volta le meraviglie ma dal volto gioioso e dall'aria colpevole di lei si vedeva che quegli incontri non erano casuali una volta di sera mentre giocavamo al biliardo il dottore mi disse ascoltate perché non frequentate la Dovzikov voi non la conoscete Maria Viktorovna è una ragazza saggia è un incanto un'anima semplice buona gli raccontai come mi aveva accolto l'ingegnere in primavera sciocchezze scoppiò a ridere il dottore l'ingegnere sta a sé e lei sta a sé davvero colombello non l'offendete andate da lei un giorno o l'altro per esempio andiamo da lei domani sera volete? egli mi persuase la sera del giorno dopo indossato al mio abito nuovo di maglia mi avviai agitato dalla Dovzikov il domestico non mi parve più così superbo e terribile né la mobilia così lussuosa come quella mattina che era andato lì quale postulante Maria Viktorovna mi aspettava e mi accolse come un vecchio conoscente stringendomi la mano con forza amichevolmente portava un vestito di stoffa grigia con maniche ampie e una pettinatura che nella nostra città un anno dopo quando venne di moda chiamavano alle orecchie di cane i capelli dalle tempi erano tirati sugli orecchi e per questo il viso di Maria Viktorovna si era come allargato e della mi parve quella volta molto somigliante a suo padre che aveva una faccia larga colorita e nell'espressione qualcosa del postiglione il era bello ed elegante ma non giovane di una trentina d'anni all'aspetto benché in realtà ne avesse 25 non di più caro dottore come gli sono riconoscente disse facendomi sedere se non fosse stato lui non sareste venuto da me mi annoio a morte mio padre è partito lasciandomi sola e io non so che cosa fare in questa città poi si mise a domandarmi dove lavoravo allora quanto ricevevo dove abitavo prendete per voi soltanto quello che guadagnate domandò sì uomo felice sospirò nella vita tutto il male mi sembra proviene dall'ozio dalla noia dal vuoto morale e tutto questo è inevitabile quando ci si abitua a vivere a spese altrui non pensate che io posi vi parlo sinceramente non è interessante e non è piacevole essere ricchi con l'illecita ricchezza acquistatevi degli amici così è stato detto perché in generale non c'è e non ci può essere una ricchezza lecita con un'espressione salia e fredda e la guardò in giro i mobili come se li volesse contare e seguitò gli agi e i comodi si dominano con forza magica ma poco a poco attirano perfino agli uomini di forte volere un tempo mio padre e io vivevamo poveramente e con semplicità e adesso vedete come è una cosa inaudita disse stringendosi nelle spalle noi spendiamo perfino ventimila rubli l'anno in provincia viaggi e i comodi vanno considerati come il privilegio inevitabile del capitale e dell'istruzione disse io e a me pare che le comodità della vita si possono associare a qualsivoglia lavoro anche il più pesante e sudicio vostro padre è ricco però come gli dice gli è toccato fare il macchinista e il semplice lubrificatore e la sorrise scosse dubbioso la testa papà a volte mangia anche il pane col kvas disse è un divertimento un ghilibizzo proprio in quel momento si udì una scampanellata e della si alzò gli uomini istruiti e ricchi devono lavorare come tutti continuò e se ci sono degli agi ci sono ugualmente per tutti non ci deve essere nessun privilegio beh che dio lo assista alla filosofia raccontatemi qualcosa di un po' allegro parlatemi dei decoratori come sono divertenti arrivò il dottore io mi misi a raccontare dei decoratori ma per mancanza di abitudine sentivo soggezione e raccontavo come un etnografo in modo serio e fiacco anche il dottore narrò anedditi della vita degli operai e li barcollava piangeva si metteva ginocchioni e si coricava perfino sul pavimento figurandosi un ubriaco era un vero gioco scenico e Maria Vittoriovna guardandolo rideva forte fino alle lacrime poi egli suonò al piano e cantò con la sua piacevole esile voce di tenore mentre Maria Vittoriovna gli stava accanto in piedi scegliendo per lui quel che doveva cantare e correggendolo quando sbagliava come ho sentito anche voi cantate domandai anche voi si scandalizzò il dottore lei è una cantante portentosa un artista e voi dite anche la detta grossa un tempo mi ci applicavo seriamente e le rispose alla mia domanda ma ora ho smesso seduta su uno sgabello basso ci narrava della sua vita a Pietroburgo e faceva la caricatura dei cantanti celebri contraffacendone le voci e il modo di cantare disegnò in un albo il dottore poi me ci disegnò male ma tutte e due riuscimmo assomiglianti e la rideva folleggiava faceva smorfie carine e questo le si addiceva più ai discorsi sulla ricchezza illecita e mi pareva che poc'anzi avesse parlato con me della ricchezza e degli agi non seriamente ma per imitare qualcuno era un'eccellente attrice comica la ponevo mentalmente accanto alle nostre signorine e persino la bella e grave a Nyuta Blagovo non reggeva al confronto con lei la differenza era immensa come fra una bella rosa coltivata e una selvatica rosa di macchia ce l'ammo in tre il dottore e Maria Vittorovna bevevano vino rosso champagne e caffè col cognac e si toccavano i bicchieri e bevevano all'amicizia all'intelligenza al progresso alla libertà e non diventavano ebri ma si erano solo coloriti in viso e spesso ridevano forte senza motivo fino alle lacrime per non apparire uggioso bevi anch'io del vino rosso le nature geniali riccamente dotate disse Dolzikov sanno come andano a vivere e vanno per la propria strada le persone mediocre invece come me per esempio non sanno nulla e da se sole non possono far nulla a loro non resta altro che adocchiare una qualche profonda corrente sociale e lasciarsi andare dove essa le porterà si può forse adocchiare ciò che non esiste domandò il dottore no perché noi non le vediamo e così le correnti sociali le ha inventate la nuova letteratura da noi non ce ne sono cominciò una discussione nessuna profonda corrente sociale esiste da noi ne è mai esistita diceva il dottore a voce alta che cosa non ha inventato la nuova letteratura ha inventato anche non so quali lavoratori intellettuali di campagna ma frugate tutte le nostre campagne e troverete il più soltanto noi vazza il corito in giacchetta o giubba nera che nella parola escio fa quattro errori la vita civile da noi non è ancora cominciata c'è la stessa selvatichezza la stessa massiccia zoticaggine la stessa meschinità di 500 anni or sono correnti tendenze ma tutto ciò agretto misero attirato da volgari interessucci da poco ed è forse possibile vedersi qualcosa di serio si vi parrà d'aver ad occhiato una profonda corrente sociale e seguendola consacrerete la vostra vita problemi di gusto moderno come la liberazione degli insetti dalla schiavitù o la stensione dalle costolette di bue mi congratulerò con voi signorina studiare ci occorre studiare e studiare ma quanto alle profonde correnti sociali aspettiamo un pochino non siamo ancora maturi per esse e in coscienza non ne capiamo nulla voi non capite ma io capisco disse Maria Vittorio voi siete oggi Dio sa quanto noioso e a far nostro studiare e studiare cercare di accumulare quante più cognizioni è possibile perché le correnti sociali serie sono là dove è il sapere e la felicità dell'umanità futura è soltanto nel sapere bevo alla scienza una cosa è fuori dubbio bisogna dare alla propria vita un qualche assetto diverso disse Maria Vittorio dopo aver taciuto e riflettuto un poco e la vita quale è stata finora non va a nulla non ne parliamo quando uscimmo da casa sua alla cattedrale già battevano le due vi è piaciuta domandò il dottore non è vero che è deliziosa il primo giorno delle feste di Natale noi pranziamo da Maria Vittoriovna e poi per tutto il periodo delle feste andammo da lei quasi ogni giorno da lei non andava nessuno forché noi ed ella aveva ragione quando diceva tranne me il dottore non aveva in città nessun conoscente trascorrevamo il tempo per lo più conversando e a volte il dottore portava con sé qualche libro o rivista e ci leggeva ad alta voce in fondo era la prima persona istruita che io avesse incontrato in vita mia non posso giudicare se sapesse molto ma esponeva di continuo le sue cognizioni poiché voleva che anche gli altri sapessero quando parlava di qualche cosa attenente alla medicina non somigliava a nessuno dei nostri dottori della città ma produceva una certa nuova particolare impressione e mi pareva che se avesse voluto sarebbe potuto diventare un vero scienziato ed era forse l'unica persona che avesse a quel tempo un serio influsso su di me trovandomi con lui e leggendo i libri che gli mi dava cominciai poco per volta a sentire il bisogno di cognizioni che spiritualizzassero il mio triste lavoro ormai mi pareva strano di non aver saputo prima per esempio che il mondo intero constava di 60 corpi semplici di non aver saputo che cosa fosse l'olio di lino che cosa fossero i colori e di avere non so come potuto fare a meno di queste cognizioni la conoscenza col dottore mi sollevò anche moralmente spesso discutevo con lui e benché di solito rimanessi nella mia opinione tuttavia grazie a lui cominciai poco per volta ad accorgermi che per me stesso non tutto era chiaro e ormai cercavo di acquistare delle convinzioni possibilmente precise perché fossero precise le indicazioni della mia coscienza e non avessero in sé nulla di confuso non di meno anche quell'uomo il più istruito e il migliore della città che era pur sempre ancora lontano dalla perfezione nelle sue maniere nella sua abitudine di ridurre ogni conversazione a una disputa nella sua piacevole voce tenorile e persino nella sua affabilità c'era qualcosa di grosso lanuccio da seminario e quando si toglieva la giubba e rimaneva con la sola camicia di seta o in trattoria gettava la manza al cameriere mi pareva ogni volta che cultura parte il tartaro tuttora fermentasse in lui all'epifania degli partiti nuovo per Pietroburgo partì la mattina e dopo pranzo venne da me mia sorella senza togliersi la pellizza e il berretto stava seduta in silenzio pallidissima e guardava un punto aveva dei brividi ed era visibile che cercava di dominarsi devi esserti raffreddata gli occhi le si riempirono di lacrime e l'assezzò e andò dalla carpofla senza dirmi nemmeno una parola come se l'avesse offesa e poco dopo sentì che diceva con tono di amaro rimprovero bambinaia a che scopo sono vissuta finora a che scopo dimmi tu non ho forse sciupato la mia giovinezza negli anni migliori della mia vita non so per altro che annotare le spese versare il tè montare le copeche intrattenere gli ospiti e credere che al di sopra di questo non si sia nulla al mondo bambinaia comprendimi oppure anch'io ho delle esigenze umane anch'io voglio vivere ma di me hanno fatto una specie di economa questo già è terribile è terribile essa scagliò le chiavi verso l'uscio ed essi caddero tintinnando nella mia stanza erano le chiavi della credenza dell'armadio di cucina della cantina e della cassetta del tè le medesime chiavi che un tempo aveva già portato mia madre oh oh padri santi all'ibile vecchia santi protettori andando a casa mia sorella passò da me per raccattare le chiavi e disse scusami da un po' di tempo da un po' di tempo mi accade qualcosa di strano una volta tornato la sera tardi dalla casa di Maria Vittoriofna trovai nella mia camera un giovane brigadiere di polizia in uniforme nuova era seduto davanti alla mia tavola e sfogliava un libro finalmente disse egli alzandosi e stirandosi è già la terza volta che vengo da voi il governatore ha ordinato che veniate da lui domani alle nove di mattina in punto senza fallo mi fece firmare che avrei adempiuto esattamente l'ordine di sua eccellenza e se ne andò questa visita a tarda ora del brigadiere di polizia e l'inatteso invito ad andare dal governatore agirono su di me nel modo più deprimente fin dalla prima infanzia mi era rimasta la paura dei gendarmi dei poliziotti e dei magistrati e ora l'inquietudine mi tormentava come se in realtà avessi qualche colpa e in nessuna maniera potevo prendere sonno anche la bambinaia e Prokofi erano agitati e non dormivano per giunta alla bambinaia doleva un orecchio e la gemeva e più volte si mise a piangere dal dolore avendo udito che non dormivo Prokofi entrò cautamente da me con una lucernetta e sedette accanto alla tavola dovreste bere della Prokofka disse dopo aver riflettuto in questa valle di lacrime come bevi tutto passa e se la bambina si versasse della Prokofka nell'orecchio ne avrebbe un gran giovamento verso le tre si accinse ad andare al macello per la carne sapevo che non mi sarei più addormentato fino al mattino e per ammazzare in qualche modo il tempo fino alle nove mi avviai insieme con lui andavamo con una lanterna e suo garzone Nicolca sui tredici anni con chiazze turchine di geloni sul viso con un'espressione davvero brigante si seguiva in slitta incitando il cavallo con voce roca il governatore certo vi puniranno mi diceva per strada Prokofi c'è la scienza dei governatori c'è la scienza degli archimandriti quella degli ufficiali quella dei dottori e per ogni professione c'è la sua scienza ma voi non vi attenete alla vostra scienza e questo non ve lo si può permettere il macello si trovava dietro il cimitero e in passato l'avevo veduto solo da lontano erano tre fosche tettoie circondate da uno stecconato grigio dalle quali quando il vento soffiava da quella parte nelle calde giornate estive veniva un lezzo asfissiante adesso entrato nel cortile al buio non vedevo le tettoie mi battevo continuamente in cavalli e slitte vuote o già cariche di carne giravano uomini con lanterne bestemmiando in modo ributtante bestemmiavano anche Prokofi e Nicolka del pari sconciamente e nell'aria c'era un brusio ininterrotto di bestemmie colpi di tosse e nitriti di cavalli si sentiva odor di cadaveri e di letame sgelava la neve già si mischiava col fango e nelle tenebre mi pareva di camminare entro pozze di sangue riempita la slitta di carne ci dirigemmo al mercato alla macelleria cominciò a far giorno arrivarono una dopo l'altra delle cuoche con ceste e delle signore attempate in mantello Prokofi con l'ascia in mano in crembiure bianco spruzzato di sangue facendo terribili giuramenti segnandosi verso la chiesa gridava forte da farsi sentire per tutto il mercato assicurando che vendeva la carne a suo prezzo giusto e perfino in perdita egli rubava sul peso e sul conto e cuoche se ne accorgevano ma assordate dalle sue grida non protestavano e soltanto lo chiamavano boia alzando e abbassando la sua terribile ascia egli assumeva pose pittoresche e ogni volta con espressione feroce emetteva il suono e io temevo che in realtà non mozzasse a qualcuno la testa o una mano io trascorsi nella macelleria tutto il mattino e quando infine andai dal governatore la mia pelliccia mandava un odore di carne e di sangue il mio stato d'animo era tale come se per ordine di qualcuno andassi contro un orso con lo spiedo ricordo l'alta scala col tappeto a righe e il giovane impiegato in marsina con bottoni lucenti che in silenzio con le due mani mi indicò una porta e corse ad annunziarmi entrai in una sala il cui arredamento era lussuoso ma freddo e senza gusto in modo particolarmente sgradevole arrivano gli occhi gli specchi alti e stretti tra una finestra e l'altra e le cortine di un giallo vivo alle finestre si vedeva che i governatori cambiavano ma l'arredamento restava sempre lo stesso il giovane impiegato mi indicò nuovamente con le due mani una porta e io mi diressi verso una gran tavola verde dietro la quale stava in piedi un generale con la croce di San Vladimiro al collo signor Polosnioff vi ho pregato di presentarvi cominciò egli tenendo in mano una lettera e aprendo la bocca largamente in tondo la guisa di un o per comunicarvi quanto segue il vostro stimato babbo per iscritto e verbalmente si è rivolto al presidente provinciale della nobiltà pregandolo di farvi chiamare e di porvi in evidenza tutta l'incompatibilità della vostra condotta con il titolo di nobile che avete l'onore di portare sua eccellenza Aleksandr Pavlovich presumendo giustamente che la vostra condotta può dare scandalo e giudicando che qui un semplice tentativo di persuasione da parte sua sarebbe insufficiente ma indispensabile un serio intervento in via amministrativa mi ha sottoposto in questa lettera le sue considerazioni a vostro riguardo che io condivido e gli diceva questo piano in tono rispettoso andando in piedi come se io fossi il suo superiore e guardandomi in modo niente affatto severo aveva un volto vizzo frusto tutto rughe con le borse pendenti sotto gli occhi si tingeva i capelli e in generale dal suo aspetto era impossibile precisare quanti anni avesse se 40 o 60 spero e gli continuò che voi apprezzerete la delicatezza del riverito Alexander Pavlovich che si è rivolto a me non ufficialmente ma in via privata anch'io non vi ho invitato ufficialmente e parlo con voi non come governatore ma come sincero estimatore di vostro padre e così vi prego o mutare la vostra condotta e tornare ai doveri confacenti al vostro titolo oppure a evitare scandalo trasferirvi in altro luogo dove non vi conoscano e dove vi possiate occupare di ciò che vi garba in caso contrario sarò obbligato a prendere provvedimenti estremi per circa mezzo minuto restò silenzioso la bocca aperta guardandomi voi siete vegetaliano? domandò no eccellenza io maggio carne e gli sedette e tirò verso di sé non so che carta io mi inchinaio e uscii prima di pranzo non metteva più conto di andare al lavoro mi avviai a casa per dormire ma non mi potei addormentare per lo sgredito penoso sentimento suscitato in me dal macello e dal colloquio col governatore e attesa la sera con volto e tetro andai da Maria Vittoriovna le raccontai che ero stato dal governatore ma lei mi guardava perplessa come se non prestasse fede e a un tratto si misi a ridere forte allegramente e con foga come se hanno ridere soltanto le persone buonarie e ridanciane se si raccontasse questo a Pietroburgo proferì quasi cadendo a terra dall'ilisa e piegandosi verso la tavola se si raccontasse questo a Pietroburgo 9 Ormai ci vedevamo sovente un paio di volte al giorno e quasi ogni giorno dopo pranzo veniva in carrozzo al cimitero e aspettandomi leggeva le epigrafi sulle croci e sui monumenti la volta entrava in chiesa e standomi accanto in piedi mi guardava a lavorare il silenzio l'ingenuo lavoro dei pittori e degli indoratori la sennatezza di riedica e il fatto che io esteriormente non mi distingueva nulla dagli altri operai e lavoravo come loro in semplice panciotto e con le scarpe sdrucite e che essi mi davano del tuo tutto era nuovo per lei e la commoveva una volta in sua presenza un pittore che dipingeva su in alto una colomba mi gridò Muteil dammi un po' la biacca io gli portai la biacca e mentre poi scendeva giù per l'esile in palcatura e la mi guardava commossa fino alle lacrime e sorrideva come siete gentile disse fin dall'infanzia mi era rimasto nella memoria come a uno dei nostri ricconi fosse volato via dalla gabbia un papagallo verde e come poi questo bell'uccello per un mese intero avesse vagato per la città volando pigramente di giardino in giardino solitario senza asilo e Maria Vittoriovna mi rammentava quell'uccello tolto il cimitero ora non ho proprio dove andare mi diceva ridendo la città mi è venuta in uggia fino al disgusto dagli azogin si recita si canta si bisbiglia e io negli ultimi tempi non li sopporto più vostra sorella è asociale mademoiselle Blagovo non so perché mi detesta il teatro io non l'amo dove volete che mi vada a cacciare quando andavo da lei mi andavo d'ordi colori e di trementina le mie mani erano nere e questo le piaceva voleva che andassi da lei non altrimenti che col solito vestito da lavoro ma nel salotto quel vestito mi impacciava io mi confondevo come se fossi in uniforme e perciò disponendomi ad andare da lei indossavo ogni volta il mio vestito nuovo di maglia e ciò non le piaceva ma voi convenitene non vi siete ancora pienamente investito della vostra nuova parte mi disse una volta i panni dell'operaio vi impazzano vi ci sentite a disagio dite non è forse perché mancate di convenzione e non siete soddisfatto lo stesso genere di lavoro che avete scelto questo vostro mestiere di decoratore possibile che vi soddisfi domandò ridendo lo so la verniciatura rende gli oggetti più belli e più solidi ma questi oggetti appartengono ai cittadini ai ricchi e alla fin fine costituiscono un lusso e inoltre voi stesso più di una volta avete detto che ognuno si deve guadagnare il pane con le proprie brazza mentre voi guadagnate del denaro e non del pane perché non attenervi al senso letterale delle vostre parole occorre guadagnarsi proprio il pane cioè occorre arare seminare e mettere trebbiare o fare qualcosa che abbia immediato rapporto con l'economia rurale per esempio pascolare le mucche scavare la terra costruire isbe e l'aprì un grazioso armadio che stava accanto alla sua scrivania e disse tutto questo ve lo dico perché vi voglio iniziare a un mio segreto voilà questa è la mia biblioteca di economia rurale qui c'è il campo e l'orto e il giardino e la stalla e l'arniaio io leggo con avidità e in teoria ho già imparato tutto fino alle minuzie ecco il mio sogno la mia dolce fantasticheria appena verrà marzo me ne andrò alla nostra Dubesnia è un sito meraviglioso stupefacente non è vero nel primo anno mi orienterò e mi abituerò ma nel secondo anno mi metterò io stessa a lavorare sul serio senza risparmiare come si dice il fil della schiena mio padre ha promesso di regalarmi Dubesnia e là io farò tutto quel che vorrò fattasi rossa agitandosi fino alle lacrime e ridendo e la sognava ad alta voce come sarebbe vissuta Dubesnia e che vita interessante sarebbe stata quella e io la invidiavo marzo era ormai vicino i giorni si facevano sempre più lunghi e nei luminosi meriggi assolati i tetti sgocciolavano e odorava di primavera anch'io avevo voglia di andare in campagna e quando ella disse che si sarebbe trasferita a Dubesnia mi figurai al vivo come sarei rimasto solo in città e sentii che ero geloso di lei per via di quell'armadio di libri e dell'economia rurale non conoscevo e non amavo l'economia rurale e già le volevo dire che l'economia rurale è un'occupazione da schiavi ma mi ricordai che qualcosa di simile era già stato detto più di una volta da mio padre e rimasi zitto sopraggiunse la quaresima arrivò da Pietroburgo l'ingegnere Vittor Ivaniz la cui esistenza avevo ormai cominciato a dimenticare arrivò inaspettato senza avvertire nemmeno con un telegramma quando io giunsi come di solito la sera egli lavato coi capelli tagliati ed un giovanito di una decina d'anni camminava per il salotto e raccontava qualcosa la figlia stando a ginocchioni tirava fuori dalle valigie scatole boccette libri e consegnava tutto al domestico Pavel scorto l'ingegnere io feci involontariamente un passo indietro ma egli mi tese tutte e due le mani e mi disse sorridente mostrando i suoi denti bianchi e robusti da postiglione eccolo eccolo anche lui felicissimo di vedervi signor decoratore Masha mi ha raccontato tutto e mi ha cantato qui sul vostro conto un intero panecirico vi capisco pianamente e vi approvo seguitò prendendomi a braccetto essere un bravo operaio quanto più intelligente e più onesto che consumare la carta dello stato e portare sulla fronte una coccarda io stesso ho lavorato nel Belgio con queste mie mani poi ho fatto per due anni il macchinista gli aveva indosso una giacchetta corta e alla casalinga e pantofole camminava come un gottoso condonandosi leggermente e stropicciandosi le mani cantichiava qualcosa a piano fra i denti e si stringeva in sedi continuo per il piacere di essere infine tornato a casa ed aver preso la sua amata doccia non si discute mi diceva durante la cena non si discute voi tutti siete persone gentili simpatiche ma non so perché signori appena vi applicate al lavoro fisico o cominciate a voler salvare il contadino tutto questo in voi si riduce alla fin fine a un settarismo non siete forse un settario voi ecco ecco che non bevete vodka che è mai questo se non un settarismo per fargli piacere bevi della vodka bevi anche del vino assaggiamo formaggi salame pastizzi sottaceti e ogni salta possibile di antipasti che aveva portato con sé l'ingegnere e vini ricevuti in sua assenza dall'estero i vini erano prelibati chi sa perché i vini e i sigari l'ingegnere li riceveva dall'estero senza pagar dogane il caviale e i dorsi di storione salati qualcuno glieli mandava gratis per l'appartamento non pagava poiché il padron di casa forniva petrolio alla ferrovia e in generale lui e la sua figlia mi facevano l'impressione che quanto c'è di meglio al mondo fosse a loro disposizione e che essi lo ricevessero assolutamente gratis continuai ad andare da loro ma non così volentieri l'ingegnere mi dava soggezione e in sua presenza mi sentivo come legato non potevo soffrire i suoi occhi limpidi innocenti i suoi ragionamenti mi opprimevano mi disgustavano mi opprimeva anche il ricordo che ancora così di recente era stato un sottoposto di quell'uomo sazio e rubicondo e che egli era stato con me spietatamente grossolano mi prendeva per la vita è vero mi batteva affabile sulla spalla approvava il mio modo di vivere ma io sentivo che egli come in passato disprezzava la mia nullità e mi tollerava solo per far piacere a sua figlia e non potevo più ridere e dire quel che volevo e mi comportavo da misantropo aspettando sempre che di punto in bianco egli mi desse del pantalei come al suo servo Pavel come si indignava il mio orgoglio provinciale borghese io proletario decoratore ogni giorno andavo da gente ricca a me estranea che tutta la città riguardava come stranieri e ogni giorno bevevo in casa loro vini costosi e mangiavo cose insolite a questo la mia coscienza non si voleva rassegnare nell'andar da loro fuggivo tetro ai passanti e li guardavo di traverso come se in realtà fosse un settario e quando dopo essere stato dall'ingegnere me ne andavo a casa mi vergognavo della mia sazietà ma soprattutto temevo di innamorarmi andassi per via lavorassi o parlassi coi garzoni pensavo di continuo soltanto che la sera sarei andato da Maria Vittorio e me ne figuravo la voce le risate il modo di camminare disponendomi ad andare da lei ogni volta stavo a lungo in piedi dalla bambinaia davanti a uno specchio storto ad annodarmi la cravatta il mio vestito di maglia mi pareva ripugnante e io soffrivo e nello stesso tempo mi disprezzavo perché ero così meschino quando ella mi gridava dall'altra stanza che non era ancora vestita e mi pregava ad attendere un poco io la sentivo a vestirsi questo mi agitava e avevo la sensazione che il pavimento si abbassasse sotto di me e quando vedevo per via o seppure da lontano una figura femminile immancabilmente facevo dei paragoni mi sembrava allora che le nostre donne e ragazze fossero volgari vestite in modo assurdo e non si sapessero contenere e questi paragoni suscitavano in me un senso di orgoglio Maria Vittoriovna era meglio di tutte la notte poi sognavo lei e me una volta a cena io e l'ingegnere mangiamo un'intera aragosta tornando poi a casa mi ricordai che l'ingegnere a cena mi aveva detto due volte carissimo e giudicai che in quella casa mi si accarezzasse come un grosso cane disgraziato che avesse perduto il padrone che alle mie spalle ci si divertisse e che quando fossi venuto a noia mi avrebbero cacciato come un cane provai vergogna e dolore dolore fino alle lacrime come se mi avessero offeso e guardando il cielo giurai di porfine a tutta quella faccenda il giorno dopo non andai da Dozikov la sera tarda quando era del tutto buio e pioveva feci un giro per la bolsa Yadvodianskaya guardando le finestre Elia Zoginza si dormiva e soltanto a una delle ultime finestre brillava un lume era la vecchia Zogin che nella sua stanza ricamava la luce di tre candele figurandosi di lottare contro i pregiudizi in casa dei nostri era già buio mentre nella casa di fronte dai Dozikov le finestre brillavano ma attraverso i fiori le tendine non si poteva distinguere nulla continuava a camminare per la via la fredda pioggia di marzo mi inzuppava sentì mio padre tornare dal circolo piccò al portone dopo un minuto alla finestra comparve un lume e io vidi mia sorella che andava frettolosa con una lampada e camminando si ravvivava con una mano i folti capelli poi mio padre camminò nel salotto da un angolo all'altro e parlò di qualche cosa strupicciandosi le mani ma mia sorella stava seduta immobile in una poltrona pensando a non so che senza ascoltarlo ma ecco che uscirono dalla stanza il lume si spense io mi volse a guardare la casa dell'ingegnere anche là era già buio nell'oscurità sotto la pioggia mi sentì disperatamente solo zettato in balia del destino sentì che a paragone delle mie sofferenze di allora e di quelle che ancora mi attendevano nella vita meschini erano tutti i miei affari e desideri e tutto ciò che fino allora avevo pensato e detto ahimè gli affari e i pensieri degli esseri viventi sono così lontani dall'essere così importanti come i loro cruci e senza rendermi conto con chiarezza di ciò che stavo facendo tirai a tutta forza il campanello al portone dei Dozikov lo strappai e corsi per la via come un monello provando paura e pensando che ora di sicuro sarebbero usciti fuori e mi avrebbero riconosciuto quando mi fermai in fondo alla via per tirare il fiato si sentiva solo il rumor della pioggia e chissà dove lontano un guardiano notturno che batteva sulla lastra di Ghisa per un'intera settimana non andai da Dozikov il vestito di maglia fu venduto di lavoro da decoratore non ce n'era e io facevo di nuovo la fame guadagnandomi da 10 a 20 copecchi al giorno dove capitava con lavori pesanti e sgraditi sguattando fino ai ginocchi nel fango freddo sforzando il petto volevo soffocare i ricordi e mi pareva di vendicarmi su me stesso di tutti quei formaggi e quelle conserve che mi avevano offerto in casa dell'ingegnere ma tuttavia da appena mi coricavo affamato e bagnato nel letto la mia immaginazione peccatrice cominciava subito a disegnarmi quadri stupendi e affascinanti e io confessavo a me stesso con stupore che amavo amavo appassionatamente e mi addormentavo di un sonno profondo e sano sentendo che per effetto di quella vita da forzato il mio corpo diventava più forte e più giovane una sera nevicò fuori di proposito e soffiò il vento del nord come se venisse di nuovo l'inverno tornato quella sera dal lavoro trovai nella mia stanza Maria Vittoriovna stava a sedere in pellizza tenendo tutte e due le mani nel malicotto perché non venite più da me domandò alzando gli occhi intelligenti e limpidi ma io mi ero fortemente turbato dalla gioia e stavo dinanzi a lei sull'attenti come davanti a mio padre quando si accingeva a battermi e la mi guardava in viso e dai suoi occhi si vedeva che capiva perché fossi turbato perché non venite da me ripetè se non volete venire ecco che sono venuta io stessa e la si alzò e mi si fece accosto non mi abbandonate disse e gli occhi le si riempirono di lacrime io sono sola assolutamente sola si miscia a piangere e disse coprendosi il volto col manicotto sola mi è penoso vivere molto penoso e al mondo non ho nessuno fuorché voi non mi abbandonate cercando il fazzoletto per asciugarsi le lacrime sorrise facemmo per qualche tempo poi io l'abbrazzai e l'avazzai graffiandomi a sangue una guanza con lo spillone appuntato nel suo berretto e ci mettemmo a parlare come se fossimo intimi già da tanto tanto tempo dieci di lì a un paio di giorni ella mi mandò ad Ubecnia e io ne fu indicibilmente lieto mentre andavo alla stazione e poi stavo seduto in treno ridevo senza motivo e l'autente mi guardava come se fosse ubriaco nevicava e la mattina c'era il gelo ma le strade già si erano oscurite e su di esse volavano gracchiando le cornacchie da principio facevo conto di mettere in ordine l'abitazione per noi due per me e per Masha nell'ala laterale di fronte a quella della signora Sheprakov ma in essa come apparve vivevano da tempi remoti i colombi e le anatre e sgombrarla era impossibile senza distruggere una quantità di nidi toccò voler o non volere andarsene nelle scomode stanze della casa grande con le persiane i contadini chiamavano quella casa palazzo c'erano in essa più di venti stanze ma di mobilia non altro che un pianoforte e un soggiolone per bambini che giaceva in soffitta e se Masha avesse portato dalla città tutti i suoi mobili anche in tal caso non saremmo tuttavia riusciti a cancellare quell'impressione di vuoto tetro e di freddo io scelsi tre piccole stanze con le finestre sul giardino e da mattina presto fino a sera le rassettavo collocando nuovi vetri tappezzando turando fessure e buchi nel pavimento era un lavoro facile piacevole correvo di continuo verso il fiume a vedere se il ghiaccio se ne andasse mi pareva sempre che fossero arrivati gli stornelli e la notte pensando a Masha io con un senso inesprimibilmente dolce e con una gioia che mi prendeva tutto tendevo l'orecchio al rumore che facevo nei topi e a rombare e picchiare del vento sopra la volta pareva che in soffitta tossisse un vecchio spirito folletto la neve era alta ne venne giù ancora molta alla fine di marzo ma si sciolse in fretta come per magia le acque primaverili scorsero impetuose così che al principio di aprile già schiamazzavano gli stornelli e volavano in giardino le farfalle gialle era un tempo stupendo ogni giorno prima di sera andavo verso la città a incontrare Masha e che delizia era camminare a piedi scalzi per la strada che si andava asciugando ancora molle a mezza strada mi mettevo a sedere e guardavo la città senza risolvermi ad avvicinarmi di più la sua vista mi turbava pensavo sempre come si conterranno verso di me i miei conoscenti dopo aver saputo del mio amore che dirà mio padre particolarmente mi turbava il pensiero che la mia vita si era complicata che avevo perduto del tutto la capacità di dirigerla e che essa come un pallone volante mi stava trasportando dio sa dove non pensavo più a come proccazzarmi il sostentamento a come vivere ma pensavo non ricordo più a che cosa Masha arrivava in carrozza io sedevo accanto a lei e andavamo insieme a due becini allegri e liberi oppure atteso il tramonto del sole tornavo a casa scontento triste non potendo capire perché Masha non fosse venuta ma al portone della villa o nel giardino mi accoglieva in aspettata una gentile apparizione lei risultava che era giunta per ferrovia e dalla stazione era venuta a piedi che giubilo in semplice vestito di lana con uno scialletto e con un modesto ombrellino mattillata snella con costosi stivaletti di marca estera un'attrice geniale che recitava la parte della borghesuccia noi visitavamo il nostro dominio e stabilivamo dove sarebbe stata la camera di ciascuno dove avremmo avuto i viali l'orto l'arnaio avevamo già galline anatre e ocche che noi amavamo per il fatto che erano nostre avevamo già pronto per la semina avena trifoglio fleo grano saraceno e sementi da orto e ogni volta esaminavamo tutto ciò e consideravamo a lungo quale sarebbe potuto essere raccolto e tutto quel che Masha mi diceva mi pareva oltremodo intelligente e bello fu quello il tempo più felice della mia vita poco dopo la domenica di San Tommaso si sposammo nella nostra chiesa parrocchiale al villaggio di Kurilevka attraverso da Dubechnia Masha volle che tutto fosse modesto per suo desiderio furono nostri valletti d'onore dei giovanotti di campagna cantò un solo chierico e noi tornammo alla chiesa in un piccolo tarantà trabalzante che la stessa guidava di ospiti della città ci fu da noi soltanto mia sorella Cleopatra alla quale un tre giorni prima delle nozze Masha aveva mandato un biglietto mia sorella portava un vestito bianco e i guanti durante lo sposalizio pianse sommessa di tenerezza e di gioia e l'espressione del suo volto era materna infinitamente buona era inebriata della nostra felicità e sorrideva come se aspirasse un dolce effluvio e io guardandola durante il nostro sposalizio capii che per lei non c'era al mondo nulla di più alto dell'amore dell'amore terreno e che ella lo sognava in segreto timidamente ma di continuo e con passione abbracciava e baciava Masha e non sapendo come esprimere il suo entusiasmo le diceva di me è buono è molto buono prima di andarsene da noi si rimise il suo vestito e mi condusse in giardino per parlare con me da sola a solo il babbo è molto amarezzato perché non gli ha scritto nulla disse bisognava chiedere la sua benedizione ma in fondo è contentissimo dice che questo matrimonio ti innalza agli occhi di tutta la società e che sotto l'influsso di Maria Viktorovna comincerai a considerare la vita più seriamente stasera adesso parliamo soltanto di te e ieri sera si è persino espresso così il nostro misail questo mi ha rallegrata a quanto pare ha ideato qualcosa e mi sembra che voglia darti un esempio di generosità e parlare per primo di riconciliazione è possibilissimo che a giorni venga qui da voi mi fece più volte in fretta il segno della croce e disse beh che Dio sia con te sii felice Agneto Blagovo è una ragazza molto intelligente dice del tuo matrimonio che è una prova che Dio ti manda e che nella vita familiare non ci sono soltanto le gioie ma anche i dolori non se ne può fare a meno io e Masha accompagnandola facciamo a piedi un treverste tornando poi camminammo ad agio e in silenzio come se ci riposassimo Masha mi teneva per mano ci sentivamo l'anima leggera e non avevamo più voglia di parlare d'amore dopo lo sposalizio eravamo diventati l'uno per l'altro ancora più vicini ed intimi e ci pareva che nulla ormai ci avrebbe potuto separare tua sorella è una simpatica creatura disse Masha ma si ha l'impressione che l'abbiano fatta soffrire a lungo suo padre deve essere un uomo tremendo mi mise a raccontarle come ci avesse educati me e mia sorella e come in realtà fosse stata dolorosa e insensata la nostra infanzia dopo aver saputo che ancora così di recente mio padre mi aveva picchiato sussultò e si strinse a me non raccontare oltre preferì è terribile ora non si separava più da me abitavamo nella casa grande in tre stanze e la sera chiudevamo solidamente la porta che conduceva nella parte vuota della casa come se là vivesse qualcuno che non conoscevamo e di cui avevamo paura io mi alzavo presto all'alba e subito mi mettevo a qualche lavoro riparavo telegi tracciavo viottoli nel giardino vangavo aiole verniciavo il tetto della casa quando giunse il tempo di seminare la vena mi provai a fare la seconda aratura a erpicare a seminare e facevo tutto ciò coscienziosamente senza restare indietro al garzone mi spossavo per via della pioggia e del vento freddo e tagliente mi bruciavano a lungo il viso ai piedi e la notte sognavo la terra arata ma i lavori dei campi non mi attiravano non conoscevo l'economia rurale e non l'amavo questo forse perché i miei avi non erano stati agricoltori e nelle mie vene scorreva puro sangue cittadino la natura io l'amavo teneramente amavo e i campi e i prati e gli orti ma il contadino che sollevava con l'aratro la terra che cencioso bagnato col collo teso incitava il suo misero cavallo era per me l'espressione della forza brutta selvaggia inelegante e guardando i suoi goffi movimenti cominciava ogni volta involontariamente a pensare la vita da lungo tempo trascorsa leggendaria degli uomini che non conoscevano ancora l'uso del fuoco il toro arcinio che andava con l'armento dei contadini e i cavalli quando scalpitando correvano per il villaggio mi incutevano paura e ogni bestia che fosse solo un tantino grossa vigorosa e irritata fosse un montone con le corna un'oca o un cane da catena mi si presentava come un'espressione di quella stessa forza brutta e selvaggia questa prevenzione parlava in me con forza particolare durante il mal tempo quando sopra i neri campi arati incombevano pesanti le nuvole soprattutto poi quando aravo e seminavo e due o tre stavano lì a guardare come facessi e non c'era in me la coscienza dell'inevitabilità e dell'obbligo di questo lavoro e mi pareva di sollazzarmi e preferivo fare qualcosa nel cortile e nulla mi piaceva come verniciare il tetto andavo al nostro mulino passando per il giardino e per il prato lo aveva in affitto Stepan un contadino di Kurilovka bello Bruno di Carnagione con una folta barba nera all'aspetto un atleta il lavoro del mugnaio egli non amava e lo stimava noioso e svantaggioso ma viveva al mulino solo per non vivere in casa era sellario e vicino a lui c'era sempre un piacevole odore di pezze e di cuoio non gli piaceva discorrere era fiacco senza mobilità e cantava sempre u l u li u li l u seduto sulla riva del fiume o sulla soglia venivano a volte a lui da Kurilovka sua moglie e sua suocera tutte e due bianche in viso languide miti gli si inchinavano profondamente e lo chiamavano voi Stepan Petrovic ma egli senza rispondere al loro inchino né con una mossa né con una parola si metteva a sedere in disparte sulla riva e cantichiava piano un'ora o due passavano in silenzio la suocera e la moglie dopo avermi svegliato un poco si alzavano e per un po' di tempo lo guardavano aspettando che si voltasse poi gli facevano un profondo inchino e dicevano con voce dolce di canto addio Stepan Petrovic e andavano via dopo di ciò raccontando il fagottino con le ciambelle o una camicia da essere lasciata Stepan sospirava e diceva strizzando l'occhio dalla loro parte sesso femminile il mulino a due macine lavorava giorno e notte io aiutavo Stepan questo mi piaceva e quando egli se ne andava in qualche posto rimaneva volentieri invece sua undici dopo un tempo tepido e sereno le strade si fecero impraticabili tutto maggio piove e fece freddo il rumor delle ruote del mulino e della pioggia disponeva alla pigrizia e al sonno tremava il pavimento c'era odor di farina e anche questo infondeva sonnolenza mia moglie in pellicetta corta e sopra scarpe alte da uomo compariva un paio di volte al giorno e diceva sempre la stessa cosa e questa si chiama estate è peggio che in ottobre insieme prendevamo il tè facevamo cuocere la cascia o per ore intere stavamo seduti in silenzio aspettando che la pioggia si calmasse una volta che Stepan era andato non so dove alla fiera Masha passò al mulino tutta la notte quando ci alzammo era impossibile capire che ori fossero e poiché le nuvole di pioggia avevano coperto tutto il cielo cantavano soltanto i galli assonnati ad uvecenia e gridavano di radiquaglie nel prato era ancora molto molto presto io e mia moglie scendemmo all'ansa del fiume e tirammo fuori la nassa che il giorno prima Stepan aveva lanciato in nostra presenza vi si dibatteva una grossa perca e vi si rizzava un gambero levando in alto le chele lasciali andare disse Masha che anche essi siano felici per il fatto che ci eravamo alzati prestissimo e poi non facemmo nulla quella giornata mi pare lunghissima la più lunga della mia vita verso sera tornò Stepan e io andai a casa nella villa oggi è venuto tuo padre mi disse Masha dov'è? domandai se n'è andato io non l'ho ricevuto vedendo che stavo zitto che mi rincresceva per mia padre e la disse bisogna essere coerenti non l'ho ricevuto e gli ho fatto dire che non si scomodasse più a venire da noi di lì a un minuto ero già fuori del portone e andavo in città per spiegarmi con mio padre c'era fango si sdrucciolava faceva freddo per la prima volta dopo il matrimonio mi senti improvvisamente triste e nel mio cervello affaticato da quella lunga giornata grigia balenò il pensiero che forse non vivevo come bisognava mi stancai ma poco a poco si impossessarono di me la pusillanimità e la pigrizia non avevo più voglia di muovermi e di riflettere e fatta un po' di strada rinunziai e tornai indietro in mezzo al cortile stava l'ingegnere in cappotto di cuoio col cappuccio e diceva forte dov'è la mobilia c'era una bellissima mobilia stile impero c'erano dei quadri c'erano dei vasi e adesso ci si potrebbe giocare alle bocce ho comprato la proprietà coi mobili che il diavolo se li porti vicino a lui stava in piedi strazionando le mani con il berretto il garzone della generalessa Moisei un giovanotto sui venticinque anni magro un po' butterato con gli occhi piccoli e sfrontati aveva una guanza più grossa dell'altra come se ci avesse dormito su vostra nobiltà voi vi siete compiaciuto di comprare senza i mobili disse incerto io mi ricordo signor sì silenzio gridò l'ingegnere che si fece paonazzo e si mise a tremare e l'eco del giardino ripete forte il suo grido dodici quando facevo qualcosa nel giardino o nel cortile Moisei mi stava accanto e poste le mani dietro il dorso mi guardava pigro e sfrontato coi suoi occhietti e questo e questo mi irritava dal segno che smettevo il lavoro e me ne andavo da Stepan venimmo a sapere che questo Moisei era l'amante della generalessa avevo notato che quando venivano da lei per denari si rivolgevano innanzitutto a Moisei e una volta vedi un certo contadino tutto nero probabilmente un carbonaio che gli si inchinava fino a terra a volte dopo aver bisbigliato sborsava il denaro egli stesso senza riferirne alla padrona da che conclusi che all'occasione operava in modo autonomo per proprio conto egli sparava nel nostro giardino sotto le finestre rubacchiava i viveri nella nostra cantina prendeva senza chiederci il permesso i cavalli e noi eravamo indignati non credevamo più che Dubecchnia fosse nostra e Masha diceva in pallidendo possibile che dobbiamo abitare con queste canaglie ancora un anno e mezzo il figlio della generalessa Ivan Sheprakov era impiegato come conduttore nella nostra ferrovia durante l'inverno era fortemente dimagrato e si era indebolito tanto che ormai diventava ebbero per un solo bicchierino e sentiva freddo all'ombra la divisa del conduttore egli la portava con ripugnanza e ne aveva vergogna ma stimava vantaggioso il suo posto poiché poteva rubare le candele e venderle la mia nuova condizione restava a lui un sentimento misto di meraviglia di invidia e di vaga speranza che anche a lui potesse accadere un che di simile egli accompagnava Masha con occhi rapiti domandava che cosa mangiasse ora a pranzo e sul suo viso scarno e brutto compariva un'espressione malinconica e dolce ed egli muoveva le dita come se palpasse la mia felicità ascolta ascolta piccolo utile diceva fannoso cominciando ogni momento a fumare l'ubile di si trovava era sempre sporco in terra perché per una sigaretta consumava decine di fiammiferi ascolta la mia vita è adesso la più abietta il peggio è che qualsiasi ufficialetto mi può gridare tu conduttore tu io fratello nei carrozzoni ne ho sentite di ogni sorta e sai ho capito che è una vitaccia mi ha rovinato mia madre sul treno un dottore mi ha detto che i genitori sono depravati i loro figli saranno ubriaconi o criminali ecco com'è una volta venne nel cortile barcollando i suoi occhi erano senza espressione il suo respiro era affannoso e gli rideva piangeva e diceva qualcosa come in un delirio febbrile e nel suo confuso discorso mi riuscivano intellegibili soltanto le parole mia madre dov'è mia madre che gli pronunciava piangendo come un bambino che avesse perduto la madre nella folla lo condussi da me nel giardino là lo feci colicare sotto un albero e poi tutto il giorno e tutta la notte io e Masha ci avvicendammo accanto a lui egli stava male e Masha guardando coribretto il suo viso pallido e bagnato diceva possibile che queste canaglie debbano abitare in casa nostra ancora un anno e mezzo è orribile e quanti dispiaceri ci davano i contadini quante delusioni fin dai primi tempi nei mesi della primavera quando avevamo tanta voglia di essere felici mia moglie faceva costruire una scuola io avevo tracciato il piano di una scuola per 60 ragazzi e la giunta provinciale l'aveva approvato ma aveva consigliato di costruire la scuola Kurilovka il grosso borgo che era in tutto attraverste da noi a proposito la scuola di Kurilovka dove studiavano i bambini di quattro villaggi fra i quali quelli della nostra Dubecnia era vecchia e angusta e sul suo pavimento marzo bisognava ormai camminare con circospezione alla fine di marzo Masha per suo desiderio fu nominata curatrice della scuola di Kurilovka e al principio di aprile noi per tre volte raduniamo l'assemblea e cercamo di persuadere i contadini che la loro scuola era angusta e vecchia e che era indispensabile costruirne una di nuova arrivarono un membro della giunta provinciale e l'ispettore delle scuole elementari e anch'essi cercarono di persuaderli dopo ogni adunanza essi ci attorniavano chiedendo i soldi per un secchio di vodka nella folla noi avevamo caldo presto ci stancavamo e tornavamo a casa scontenti e un po' confusi alla fin fine i contadini concessero il terreno per la scuola e si obbligarono di trasportare dalla città con i loro cavalli tutto il materiale da costruzione e appena essi si furono sbrigati dei grani primaverili fin dalla prima domenica da Kurilovka a Dubechnia i carri andarono a caricare i mattoni destinati per le fondamenta partirono alle prime luci dell'alba e tornarono a sera tardi i contadini erano ubriachi e dicevano di essere sfiniti come farlo apposta le piogge e il freddo continuarono per tutto maggio la strada si guastò divenne fangose i carri al ritorno della città entravano di solito nel nostro cortile e che orrore era quello ecco che al portone compare un cavallo con le zampe anteriori divaricate panciuto prima di entrare nel cortile ciondola la testa spunta su un carro piatto una trave d'un dodici arsini bagnata di aspetto viscido accanto ad essa imbaccuccato a difesa dalla pioggia senza guardarsi ai piedi senza evitare le pozze sgamba un contadino con le falde della giacca infilate nella cintura compare un altro carro con assi poi un terzo con una trave un quarto e lo spazio davanti alla casa poco a poco si gremisce di cavalli di travi di tavole contadini e contadine con la testa avviluppata e vestiti rialzati guardando corrucciati le nostre finestre rumorezzando pretendono che esca la signora si odono in giuria grossolane e in disparte sta Moisei e a noi pare che goda il nostro scorno non porteremo più nulla gridano i contadini ci siamo finiti dovresti andare tu stessa a fare i trasporti mascia pallida intimorita pensando che da un momento all'altro le rompano in casa manda fuori i soldi per un mezzo secchio di vodka dopo di ciò il chiasso si placa e le lunghe travi una dopo l'altra tornano indietro uscendo dal cortile quando mi accingevo ad andare sul posto della costruzione mia moglie si agitava e diceva i contadini sono irritati purché non ti facciano qualche cosa no aspetta verrò anch'io con te noi partivamo insieme per Kulilovka e là i falegnami ci chiedevano la mancia l'ossatura era già pronta era tempo di gettare le fondamenta ma non giungevano ai muratori ne derivava un ritardo e i falegnami protestavano e quando finalmente giunsero i muratori si vide che mancava la sabbia e chissà come non avevano tenuto presente che era necessaria approfittando della nostra condizione senza uscita i contadini chiesero 30 copeche per carro sebbene dalla costruzione del fiume dove prendevano la sabbia non ci fosse nemmeno un quarto di versta ed i carri ne corressero in tutto più di 500 i malintesi le imprecazioni e le democinare non avevano fine mia moglie si indignava ma l'impresario muratore tit petroff un vecchio settantenne la prendeva per il braccio e diceva guarda qui guarda qui fammi portare soltanto la sabbia io ti manderò dieci uomini in una volta e in due giorni sarà pronto guarda qui ma portarono la sabbia passarono e due e quattro giorni e una settimana e al posto delle future fondamenta si apriva tuttora un fossato a questo modo si impazzisse si agitava mia moglie ma che gente ma che gente al tempo di questo scompiglio arrivava da noi l'ingegner Vittor Ivanice portava con sé sacchetti con vine e antipasti mangiava a lungo e poi si metteva a dormire sul terrazzo e russava così che i gardoni scuotevano il capo e dicevano però Masha non era contenta della sua venuta non aveva fiducia in lui e nello stesso tempo si consigliava con lui quando egli fatta una lunga dormita dopo pranzo elevatosi di cattivo umore parlava male della nostra azienda o esprimeva l'increscimento per aver comprato Dubechnia che già gli aveva procurato tante perdite sul volto della povera Masha si dipingeva l'angoscia e la si legnava con lui e gli sbadigliava e diceva che i contadini bisognava frustarli il nostro matrimonio e la nostra vita li chiamava commedia diceva che erano un capriccio una monelleria le è già successo qualcosa di simile mi raccontava Dimasha una volta si immaginò di essere una cantante d'opera e se ne andò io la cercai per due mesi e solo in telegrammi carissimo spesi mille rubli non mi chiamava più né settario né signor decoratore e non approvava la mia vita da operaio come in passato ma diceva voi siete un uomo anormale non oso predirlo ma finirete malamente dimasha dormiva male la notte e pensava sempre a qualcosa seduta alla finestra della nostra camera non c'erano più risate durante la cena né graziose smorfie io soffrivo e quando pioveva ogni goccia mi si affondava in cuore come un pallino da caccia ed ero pronto a cadere davanti a Masha in ginocchio e a chiederle scusa per il tempo quando nel cortile schiamazzavano i contadini anche allora mi sentivo colpevole per ore intere stavo seduto allo stesso posto pensando soltanto che magnifica creatura fosse Masha che meravigliosa creatura io l'amavo con passione e mi incantava tutto quel che faceva tutto quel che diceva e l'aveva inclinazione per i lavori tranquilli di gabinetto amava leggere a lungo e studiare pur conoscendo l'economia rurale solo dai libri ci meravigliava tutti con le sue cognizioni e i consigli che dava tornavano tutti utili e non uno di essi andò perduto per l'azienda e insieme con tutto questo quanta nobiltà quanto gusto e quanta benignità quella benignità che sogliono avere soltanto le persone bene educate per questa donna di spirito sano positivo l'ambiente disordinato pieno di meschini fastidi e di beghe nel quale allora vivevamo era un tormento io vedevo ciò neanch'io la notte non potevo dormire la mia testa lavorava e le lacrime mi salivano alla gola mi agitavo non sapendo che fare caloppavo in città e portavo a Masha libri, giornali confetti e fiori insieme con Stéphane pescavo vagando per ore intere con l'acqua fredda sino al collo sotto la pioggia per prendere una lasca e variare la nostra mensa pregavo umilmente i contadini di non far chiasso mi abbeveravo di vodka li compravo facevo loro varie promesse e quante altre sciocchezze facevo le piogge infine cessarono la terra si asciugò si si levava il mattino verso le quattro e si usciva in giardino la rugiada brillava sui fiori brusivano gli uccelli e gli insetti nel cielo nemmeno una nuvoletta il giardino il prato e il fiume erano così belli ma ricordi dei contadini dei carri dell'ingegnere io e Masha andavamo insieme su un calessino leggero nei prati a dare un'occhiata alla vena lei guidava io ero seduto dietro e la teneva sollevate le spalle e il vento giocava coi suoi capelli tienila a destra gridava a chi veniva incontro somiglia a un postiglione le disse una volta e può darsi mio nonno infatti il padre dell'ingegnere era postiglione non lo sapevi domandò volgendosi verso di me e subito fece vedere come gridavano e cantavano i postiglioni e sia lode a Dio pensavo ascoltandola sia lode a Dio e di nuovo i ricordi dei contadini dei carri dell'ingegnere 13 arrivò in bicicletta il dottor Blagovo mia sorella prese a venire spesso di nuovo le conversazioni sul lavoro fisico sul progresso sulla misteriosa incognita che attende l'umanità in un lontano futuro al dottore non piaceva la nostra azienda perché ci impediva di discutere e diceva chiarare mietere pascolare i vitelli era indegno di un uomo libero e che tutti questi aspetti grossolani della lotta per l'esistenza gli uomini col tempo li avrebbero riversati sugli animali e sulle macchine mentre essi si sarebbero occupati esclusivamente di ricerche scientifiche la mia sorella pregava sempre che la si lasciasse andare a casa un po' presto e se rimaneva fino a tarda sera o a passare la notte la sua agitazione non aveva fine Dio mio come siete ancora bambina diceva con un improvero mascia è perfino ridicolo alla fine sì è ridicolo consentiva mia sorella riconosco che è ridicolo ma che fare se non ho la forza di vincermi mi pare sempre di agir male durante la fine ragione mi doleva per mancanza di abiciudine tutto al corpo mentre la sera ero seduto sul terrazzo coi miei e discorrevo a un tratto mi addormentavo e si rideva forte di me mi svegliavano mi facevano sedere a tavola per cenare ma la sonnolenza mi soverchiava e io come indeliquio vedevo i lumi i visi i piatti udivo le voci ma non le capivo e vatomi poi di buon mattino prendevo subito in mano le false oppure andavo alla costruzione e lavoravo tutto il giorno quando restavo in casa alla festa mi accorrevo che mia moglie e mia sorella mi nascondevano qualche cosa e pareva perfino che mi evitassero mia moglie era tenera con me come prima ma aveva certi suoi pensieri che non mi comunicava era fuori dubbio che la sua irritazione contro i contadini cresceva la vita per lei diventava sempre più penosa ma intanto con me non si lagnava più col dottore adesso parlava più volentieri che con me e io non capivo perché fosse così nella nostra provincia c'era un'usanza durante la finagione il raccolto del grano la sera venivano nel cortile dei padroni i lavoratori e si offriva loro la vodka perfino le giovani ragazze ne bevevano un bicchiere a testa noi non ci attenevamo a quest'uso falciatori e contadine stavano sul nostro cortile fino a sera aspettando la vodka e poi se ne andavano bestemmiando e Mascia in quei momenti si accigliava arcigna e taceva oppure diceva il dottore con irritazione sottovoce selvaggi peceneghi in campagna i novellini venivano accolti scortesemente in modo quasi ostile come a scuola così avevano accolto anche noi nei primi tempi si avevano considerati come gente stupida e sempliciotta che si era comprato una proprietà soltanto perché non sapeva dove ficare il denaro di noi si rideva nel nostro bosco e fino al nostro giardino i contadini pascolavano i loro bestiame cacciavano verso il villaggio le nostre mucche e i nostri cavalli e poi venivano a chiedere i danni venivano in corpo nel nostro cortile e dichiaravano rumorosamente che noi falciando avevamo usurpato un lembo di una qualche biscevchia o sermionica che non ci apparteneva e poiché noi non conoscevamo ancora con esattezza i confini della nostra terra credevamo sulla parola e pagavamo un'ammenda ma poi appariva che avevamo falciato con ragione nel nostro bosco scortecciavano i giovani tigli un contadino di Dubechnia un kulak che trafficava la vodka senza licenza subornava i nostri garzoni e insieme con loro ci ingannavano nel modo più sleale le ruote nuove dei carri le sostituiva con altre vecchie prendeva collari delle nostre bestie da lavoro e li vendeva a noi stessi eccetera ma la cosa più offensiva di tutta era ciò che succedeva a Kurilovka nella costruzione là le contadine di notte rubavano le assicelle i mattoni le piastrelle i ferramenti lo starost con testimoni faceva in casa loro una perquisizione l'assemblea infliggeva a ciascuna una multa di due rubli e poi questi denari delle multe se li bevevano tutti insieme quando Marsha veniva a sapere queste cose diceva con indignazione al dottore o a mia sorella che animali è un orrore un orrore e io la udì più di una volta esprimere il rammarico di aver ideato la costruzione della scuola capite cercava di persuaderla dottore capite che se voi fate costruire questa scuola e in genere fate del bene non è per i contadini ma in nome della civiltà in nome dell'avvenire e quanto peggiori sono questi contadini tante più ragioni ci sono di costruire la scuola capitelo nella sua voce però si sentiva l'incertezza e a me pareva che egli come Marsha odiasse i contadini Marsha spesso se ne andava al mulino e prendeva con semi a sorella e tutte e due ridendo dicevano che andavano a vedere quant'era bello Stéphane Stéphane come ci vide era lento e taciturno solo con gli uomini in compagnia di donne invece aveva modi sciolti e parlava senza tregua una volta una volta giunto al fiume per bagnarmi sorpresi involontariamente una conversazione ma Cecleopatra tutte e due vestite di bianco erano sedute sulla riva sotto la vasta ombra di un salice e Stéphane in piedi lì accanto con le mani dietro il dorso diceva forse che i contadini sono uomini non uomini sono ma scusate bestie ciarlatani qual è la vita del contadino soltanto mangiare e bere purché i viveri siano a buon mercato e poi urlare a squarciagola all'osteria senza criterio e non sa parlare a modo non ha tratto né buone maniere è solo uno zoticone e lui vive nella sporcizia sua moglie nella sporcizia e i figli nella sporcizia con quel candosso si corica tira fuori le patate dallo sci direttamente con le dita beve il quas con gli scarafaggi almeno ci soffiasse su ma è la povertà intervenne mia sorella che povertà è giusto la miseria ma c'è miseria miseria signorina se un uomo è in prigione o diciamo se è cieco senza gambe allora veramente che Dio ne guardi ognuno ma se è in libertà con la testa segno se ha occhi e mani se ha forza Dio l'assiste che altro gli occorre è vizio signorina ignoranza e non povertà ecco se voi buoni signori mettiamo per la vostra istruzione per pietà gli vorrete regare il soccorso allora lui nella sua bassezza il vostro denaro se lo berrà o peggio aprirà gli stessi una mescita e quei vostri denari si metterà a derubare la gente vi siete compiaciuta di dire la povertà ma forse che il contadino ricco vive meglio anche lui scusate è come un maiale è becero urlone tonto più largo che lungo con un muso gonfio rosso alzerai il braccio mi pare e gli darai un mostaccione a quel furfante ecco l'arion di Dubecnia è anche lui ricco ma credo scorti caettigli nel vostro bosco non meno di un povero ed è bestemmiatore lui e sono bestemmiatori i suoi figli e quando ha bevuto un pochino di troppo si caccia col naso in una pozza e dorme tutti costoro signorina non valgono niente viver con loro al villaggio è come stare all'inferno non ho le tasche piene io di questo villaggio e ringrazio il signore re dei cieli che sono sazzo e vestito ho fatto il mio servizio militare nei dragoni sono stato per tre anni starosta e ora sono un libero cosacco vivo dove voglio di abitare al villaggio non ho desiderio e nessuno ha il diritto di forzarmici c'è tua moglie dicono tu dicono hai l'obbligo di abitare nell'isba con tua moglie e perché non mi sono allogato da lei dite Stéphane vi siete sposato per amore domandò Masha che amore può essersi da noi in campagna rispose Stéphane e sauguinò a dire il vero signorina se vi fa piacere saperlo sono sposato per la seconda volta io non sono di Kurilovka ma di Zagelosh al Kurilovka sono venuto poi come genero gli è che il nostro genitore non volle farle parti da noi eravamo cinque fratelli io gli feci un inchino e alzai i tacchi me ne andai in un altro villaggio come genero la mia prima moglie morì in giovane età di che? di stupidità piangeva piangeva sempre e piangeva senza una ragione e così deperì beveva sempre certe erbette per farsi bella e probabilmente si guastò i visceri quanto alla mia seconda moglie quella di Kurilovka che c'è in lei? è una donna di campagna una contadina e nulla di più quando me la proposero mi sentì attirato pensavo è giovane bianca di carnagione vivono pulitamente la madre ha l'aria di una Kristofka e beve caffè ma soprattutto vivono pulitamente si sposai dunque e il giorno dopo sedemmo a pranzo io mi feci dare un cucchiaio dalla suocera e lei mi porge un cucchiaio e guardo l'aveva asciugato con un dito ecco ti penso bella pulizia la vostra sono rimasto con loro un anno poi me ne sono andato forse avrei dovuto sposare una di città seguitò dopo un po' di silenzio dicono che la moglie è l'aiutante del marito ma a che mi serve un aiutante? io stesso mi aiuto da me e tu parlami piuttosto un po' meglio e non sempre soltanto te 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 ma con serietà con sentimento senza una buona conversazione che vita hai mai? stepan tacque un tratto e subito si udì il suo triste monotono uh liu 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 e questo voleva dire che mi aveva visto mascia andava spesso al mulino e nel discorrere con stepan evidentemente trovava piacere stepan sparlava dei contadini con tanta sincerità e convinzione che lei si sentiva attirata da lui quando tornava dal mulino ogni volta il contadino scemo che faceva la guardia al giardino le gridava ragazzo palasca buongiorno ragazzo palasca e la abbagliava contro come i cani wow wow e lei si fermava e lo guardava attentamente come se nell'abbagliare di quello scemo trovasse risposto ai suoi pensieri e probabilmente egli la traeva al pari delle invettive di stepan a casa l'aspettava qualche notizia del genere di questa per esempio che le occhi del villaggio ci avevano pestato i cavoli nell'orto o che la lion aveva rubato delle redini ed ella diceva stringendosi nelle spalle con un sogghigno che volete mai da questa gente si indignava nell'anima le si accumulava come una schiuma ma io intanto mi abituavo ai contadini e mi sentivo sempre più attirato verso di loro in maggioranza in maggioranza erano gente nervosa irritata umiliata erano gente dall'immaginazione depressa ignorante con un orizzonte povero e scialbo sempre con gli stessi uguali pensieri della terra grisa dei giorni grigi del pan nero persone che giocavano di astuzia ma come gli uccelli nascondevano dietro l'albero soltanto la testa che non sapevano contare non venivano da voi a falciare per venti rubli ma ci venivano per mezzo secchio di vodka sebbene con venti rubli ne potessero comprare quattro secchi in realtà c'erano e la sporcizia e l'ubriachezza e la stupidità e gli inganni ma con tutto questo si sentiva però che la vita del contadino in generale si reggeva su un cardine solido e sano per quanto il contadino nell'andare dietro al suo aratro sembrasse una bestia sgraziata e per quanto si stordisse con la vodka tuttavia osservandolo un po' più da vicino sentivi che in lui c'era quella cosa necessaria e molto importante che non c'era per esempio in Masha e nel dottore e cioè egli credeva che l'essenziale sulla terra fosse la verità e che la salvezza sua e di tutto al popolo stesse unicamente nella verità e perciò più di tutto al mondo egli amava la giustizia io dicevo a mia moglie che lei vedeva le macchie sul vetro ma non vedeva il vetro stesso in risposta ella taceva oppure canticchiava come Stepan Uliuli liuli liulu quando questa donna buona e intelligente impallidiva dall'indignazione e con un tremito nella voce parlava col dottore di ubriachezza e di inganni la sua capacità di oblio mi rendeva perplesso e mi faceva stupire come poteva come poteva dimenticare che suo padre l'ingegnere beveva anche lui beveva molto e che i denari coi quali aveva comprato Dubetsnia li aveva acquistati con una serie di sfrontati e disonesti inganni come poteva dimenticare ciò 14 anche mia sorella viveva la sua vita particolare che mi nascondeva con gran cura spesso mi sbigliava con Masha quando mi avvicinavo a lei si stringeva tutta in sé e il suo sguardo diventava colpevole supplice evidentemente nella sua anima avveniva qualcosa di cui ella aveva paura o si vergognava per non incontrarmi in qualche modo nel giardino o non star sola con me si teneva sempre accanto a Masha e mi toccava parlare con lei di rado soltanto a pranzo una sera passavo piano per il giardino di ritorno dalla costruzione già cominciava a farsi buio senza accorgersi di me senza udire i miei passi mia sorella camminava vicino a un vecchio ampio melo assolutamente senza rumore come un fantasma era vestita di nero e camminava in fretta sempre sulla medesima linea avanti e indietro guardando a terra calde una mela dall'albero e la sussultò a rumore si fermò e premette le mani alle tempie in quello stesso momento mi accostai a lei in un impeto di tenor amore chiamerà affluito al cuore d'improvviso con le lacrime agli occhi ricordandomi chissà perché di nostra madre della nostra infanzia la cinsi alle spalle e le dia di un bacio che hai domandai tu soffri da un pezzo lo vedo dimmi che hai ho paura e le preferì tremando che hai dunque interrogai per amor di dio si schietta sarò schietta ti dirò tutta la verità nasconderla a te è così penoso così tormentoso misail io amo continuò con un bisbiglio io amo io amo sono felice ma perché ho tanta paura si udirono dei passi comparve fra gli alberi il dottor Blagovo in camicia di seta e stivali alti evidentemente si erano fissati un convegno lì vicino al melo vedendolo ella si gettò d'impedo verso di lui con un grido doloroso come se glielo portassero via Vladimir Vladimir si stringeva a lui e con avidità lo guardava in viso e solo allora notai come si fosse fatta magra e pallida negli ultimi tempi in particolare questo lo si poteva scorgere dal suo collettino di pizzo che da lungo tempo conoscevo e che ora più comodamente di una volta le fasciava il collo lungo e sottile il dottore si turbò ma si rimise subito e disse carezzandole i capelli su via basta basta perché essere così nervosa vedi sono venuto facevamo guardandoci l'un l'altro imbarazzati poi camminammo tutte e tre insieme e io sentì il dottore che mi diceva la vita civile da noi non è ancora cominciata i vecchi si consolano pensando che se ora non c'è nulla qualche cosa ci fu negli anni 40 o 60 così i vecchi ma io e voi siamo giovani i nostri cervelli non li ha ancora colpiti il marasma senile non si possono consolare con simili illusioni l'inizio della Russia fu nell'anno 862 ma l'inizio della Russia civile io così la intendo non è ancora stato ma io non mi addentravo in queste considerazioni mi riusciva strano non volevo credere che mia sorella fosse innamorata che camminasse ecco tenendo a braccetto un estraneo e lo guardasse teneramente mia sorella quella creatura nervosa spaurita depressa senza libertà amava un uomo che era già sposato e aveva figli qualche cosa mi fece pena ma che cosa precisamente non so la presenza del dottore chissà perché ormai mi era sgradita e io in nessuna maniera potevo comprendere che cosa potesse uscire da quel loro amore 15 io e Masha andavamo a Kurilovka per la consacrazione della scuola autunno 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 diceva piano Masha guardando dai lati l'estate è passata uccelli nessuno e sono verdi soltanto i salici sì è già passata l'estate le giornate sono serene e tiepide ma la mattina fa fresco i pastori escono ormai col tulup e sul nostro giardino sugli asteri la rugiada non evapora durante l'intera giornata si audono sempre dei suoni lamentosi e non si distingue se sia un'imposta che tigola sui cardini arrugginiti o le cicogne che volano e ci si sente bene nell'anima e si ha tanta voglia di vivere è passata l'estate diceva Masha adesso noi due possiamo tirare le somme abbiamo lavorato molto abbiamo pensato molto siamo per questo divenuti migliori se onore a noi e gloria abbiamo progredito nel nostro perfezionamento personale ma questi nostri progressi hanno avuto una sensibile influenza sulla vita circostante hanno recato vantaggio non fosse che a qualcuno no signoranza la sporcezza fisica l'ubriachezza la mortalità infantile straordinariamente alta tutto è rimasto com'era e per il fatto che tu hai arato e seminato e io ho speso denaro e letto libri nessuno sta meglio evidentemente abbiamo lavorato soltanto per noi stessi e abbiamo spaziato quel pensiero soltanto per noi simili ragionamenti mi sconcertavano e io non sapevo che cosa pensare noi dal principio alla fine siamo stati sinceri disse io e chi è sincero ha ragione chi lo nega noi avevamo ragione ma abbiamo attuato in modo erroneo ciò in cui avevamo ragione prima di tutto i nostri metodi esteriori forse che non sono errati tu vuoi essere utile agli uomini ma già per il solo fatto che acquisti una proprietà ti precludi fin dal principio ogni possibilità di fare per loro qualcosa di utile e poi se lavori ti vesti e manzi come un contadino vieni con la tua autorità come a legittimare questo loro pesante e goffo modo di vestire le orribili isbe queste loro stupide barbe l'altro canto ammettiamo che tu lavori a lungo molto a lungo tutta la vita e che alla fin fine si ottenga qualche risultato pratico ma che cosa possono questi tuoi risultati che cosa contro forze così elementari come l'ignoranza del greggio la fame il freddo la degenerazione è una goccia nel mare qui sono necessari altri metodi di lotta forti audaci rapidi se in realtà vuoi essere utile esci dal cerchio ristretto dell'attività abituale e cerca di agire sulla massa di colpo è necessaria innanzitutto una predicazione rumorosa energica perché l'arte per esempio la musica è così vivace così popolare così realmente forte ma perché il musicista il cantante agisce di colpo su migliaia di persone cara cara arte continuò guardando trasognata il cielo l'arte è dalle ali e porta lontano lontano quello cui sono venuti in uggia il fango e meschini interessi spiccioli che è nauseato offeso e indignato può trovare pace e soddisfazione soltanto nel bello mentre ci avvicinavamo a Kurilovka il tempo era sereno gioioso poi là nei cortili si trabbiava odorava di paglia di segala dietro le siepi rosseggiava vivamente il sorbo e gli alberi all'intorno dovunque si guardasse erano dorati e rossi il campanile si scampanava si portavano le immagini verso la scuola e si udiva cantare protettrice e sollecita e chiaglia trasparente come volavano alti i colombi il tedeum fu ufficiato in classe poi i contadini di Kurilovka offrirono a Masha un'icona e quelli di Dubechnia un grosso croccante e una saliera dorata e Masha scoppiò in singhiozzi e se è stato detto qualcosa fuori di luogo o se c'è stata qualche contrarietà perdonate disse un vecchio e si inchinò a lei e a me mentre andavamo a casa Masha si voltava a guardare la scuola il tetto verde da me verniciato e ora dilucente al sole rimase a lungo visibile e io sentivo che gli sguardi che gettava allora Masha erano di addio 16 la sera si preparò per andare in città negli ultimi tempi si recava spesso in città e là passava la notte in sua assenza io non potevo lavorare le braccia mi cascavano e infiacchivano il nostro vasto cortile mi pareva una landa uggiosa e ripugnante il giardino stormiva iroso e senza di lei la casa gli alberi e i cavalli per me non erano più i nostri non andavo in nessun posto fuori di casa ma stavo sempre seduto alla sua tavola vicino al suo armadio di libri di economia rurale ex favoriti ormai inutili che mi cordavano con aria così confusa per ore intere finché battevano le sette le otto le nove finché al di là delle finestre scendeva la notte autunnale nera come la fuligine io osservavo un suo vecchio guanto o la penna con la quale scriveva sempre o le sue piccole forbici non facevo nulla ed ero chiaramente consapevole che se prima avevo fatto qualcosa se avevo arato falciato spaccato legna era solo perché lei così aveva voluto e se mi avesse mandato a spurgare un pozzo profondo dove sarei stato nell'acqua fino alla cintola sarei disceso anche nel pozzo senza stare a cercare se ciò fosse necessario o no ma ora che lei non m'era accanto più beccine con le sue rovine con la sua casa non rassettata con le imposte che sbatacchiavano con i ladri notturni e diurni mi si presentava ormai come un caos nel quale ogni lavoro sarebbe stato inutile e poi a che scopo avrei dovuto lavorare lì a che scopo aver sopraccapi e pensare all'avvenire se io sentivo che il terreno mi mancava sotto i piedi che la mia parte lì a Dubecenia ormai era finita che mi attendeva in una sola parola la stessa sorte che aveva colpito i libri di economia rurale ah che angoscia era quella di notte nelle ore di solitudine quando ogni minuto tendevo l'orecchio con ansietà come aspettando che da un momento all'altro qualcuno gridasse che per me era tempo di andarmene non rimpiangevo Dubecenia rimpiangevo il mio amore per il quale evidentemente era del pari sopraggiunto ormai il suo autunno che immensa felicità amare ed essere amato e che orrore sentire che si comincia a precipitare da quell'alta torre Masha tornò dalla città il giorno dopo verso sera era scontenta di qualche cosa ma lo nascondeva e domandò soltanto perché fossero state messe tutte le doppie imposte a questo modo si poteva soffocare io levai due imposte non avevamo voglia di mangiare ma sedemmo a tavola e cenammo va a lavarti le mani disse mia moglie sai odor di mastice aveva portato dalla città le nuove riviste illustrate e le esaminamo insieme dopo cena ci imbattevamo in supplementi con figurini e modelli Masha li osservava di sfuggita e li metteva da parte per esaminarli poi a uno a uno come conveniva ma un vestito con una gonna liscia larga come una campana e con grandi maniche la interessò ed ella lo guardò per un minuto con serietà e attenzione questo non è male disse sì questo vestito ti starà molto bene disse io molto e guardando commosso il vestito ammirando quella macchia grigia solo perché era piaciuta a lei continuai tenere la mente stupendo delizioso vestito bella meravigliosa Masha mia cara Masha e delle lacrime gocciolarono sul figurino meravigliosa Masha mormoravo gentile cara Masha e l'andò a coricarsi e io rimasi ancora circa un'ora a osservare le illustrazioni hai fatto male a levarle in poste dissi dalla camera temo che faccia freddo beh come soffia il vento io lessi qualcosa tra le varietà sulla preparazione di un incostro economico e sul più grosso brillante del mondo mi battei di nuovo nel figurino del vestito che le era piaciuto e me la immaginai al ballo con un ventaglio con le spalle nude splendida sforzosa intenditrice di musica di pittura e di letteratura e come piccola effimera mi parve la mia parte il nostro incontro quel nostro matrimonio erano stati soltanto un episodio come ce ne sarebbero stati ancora non pochi nella vita di quella donna vivace riccamente dotata quanto c'è di meglio al mondo come ho già detto era a sua disposizione e lei lo riceveva del tutto gratis e perfino le idee e il movimento intellettuale di moda erano per lei un diletto che variava la sua vita e io ero stato soltanto un vetturino che l'aveva trasportata da un'infatuazione a un'altra ormai l'ero inutile lei sarebbe volata via e io sarei rimasto solo e come risposta ai miei pensieri ecceggiò nel cortile un grido disperato aiuto era una voce sottile di contadina e come se la volesse contraffare il vento prese a ronzarne il camino anch'esso con voce sottile passò circa mezzo minuto e si sentì di nuovo attraverso il rumore del vento ma già come se venisse da un altro capo del cortile aiuto misail senti domandò piano mia moglie senti ella venne a me dalla camera in sola camicia coi capelli sciolti e stetti in ascolto guardando la finestra buia trozzano qualcuno proferì ci mancava ancora questa io presi il fucile e uscii il cortile era molto buio soffiava un vento forte tanto che era difficile tenersi in piedi andai verso il portone tesi l'orecchio gli alberi stormiscono fischia il vento e nel giardino probabilmente dal contadino scemo un cane guaisce pigro oltre il portone un buio d'inferno sulla linea nemmeno un lumicino e vicino alla casetta dove l'anno prima c'era l'ufficio e che giò a un tratto un grido soffocato aiuto chi è là chiamai due uomini lottavano uno spingeva fuori l'altro che faceva resistenza e tutte e due respiravano affannosamente lasciami diceva uno di essi e io riconobbi Ivan Shevrakov era proprio lui che gridava con voce sottile di donna lasciami maledetto se no ti coprirò dimorsi le mani e l'altro riconobbi Moisei li separai e intanto non mi trattenne da colpire Moisei alla faccia due volte e gli cadde poi si sollevò e io lo colpì un'altra volta il signore mi voleva uccidere borbottava si avvicinava di soppiatto al canterano della mamma lo voglio chiudere nel padiglione per sicurezza ma Shevrakov era ubriaco non mi riconosceva e respirava sempre profondamente come facendo provvista d'aria per gridare di nuovo aiuto li lasciai e tornai in casa mia moglie giaceva sul letto ormai vestita e raccontai ciò che stava succedendo in cortile e non le nascosi nemmeno ad aver picchiato Moisei è terribile vivere in campagna disse e che lunga notte che Dio la benedica aiuto suddi nuovamente di lì a poco li vado a calmare dissi no si azzannino pure alla gola proferiella con un'espressione di disgusto guardava il soffitto e stava in ascolto mentre io l'ero seduto accanto senza avere il coraggio di mettermi a parlare con lei con un sentimento come se fossi io il colpevole se nel cortile gridavano aiuto e se la notte era così lunga noi noi tacevamo e io attendevo con impazienza che alle finestre spuntasse l'alba e Masha in tutto quel tempo aveva un'aria come se si fosse riavuta da uno svenimento e ora si meravigliasse di essere potuta capitare lei così intelligente così educata così pulita in quella misera landa provinciale fra una torba di gente meschina da nulla e di essersi potuta andare a tal segno da innamorarsi perfino di uno di quegli uomini e da essere per più di sei mesi sua moglie mi pareva che per lei fosse ormai tutto lo stesso quel che ero io quello che eramo i sei o Sceprakov che tutto per lei si fosse fuso in quel lebro selvaggio aiuto io al nostro matrimonio la nostra azienda e il maltempo autunnale e quando ella sospirava o si muoveva per distendersi più comodamente io le leggevo sul volto oh venisse presto al mattino al mattino partì io trascorsi a Dubecnia ancora tre giorni aspettandola poi radunai tutte le nostre cose in una stanza la chiusi e andai a piede in città quando suonai dall'ingegnera era già sera e sulla nostra bolsa Jadvoryanskaya brillavano i lampioni Pavel mi disse che in casa non c'era nessuno Viktor Ivani c'era partito per Pietroburgo e Maria Viktorovna probabilmente era dagli azugin a una prova ricordo che con agitazione andai poi dagli azugin come mi batteva e veniva meno il cuore mentre salivo per la scala e poi sostavo lungo di sopra sul pianerottolo non usando entrare in quel tempio delle muse nella sala su un tavolino sul pianoforte sulla scena ardevano candele dappertutto a tre a tre il primo spettacolo era fissato per il tredici e ora la prima prova era di lunedì giorno in fausto la lotta contro i pregiudizi tutti gli amatori dell'arte scenica erano già radunati la maggiore quella di mezzo e la minore camminavano per la scena leggendo le loro parti nei quadernetti indisparti da tutti stava in piedi immobile rietga appoggiandosi con una tempia alla parete e guardava con adorazione la scena in attesa che cominciasse la prova tutto come un tempo mi diressi verso la padrona di casa bisognava salutarla ma a un tratto tutti mi presero a zittire a farmi dei cenni perché non facessi rumore coi piedi tutto fu silenzio venne sollevato il coperchio del piano vi sedette non so quale signora strezzando gli occhi miopi sulla musica e si avvicinò al piano la mia mascia tutta in gala bella ma bella in un certo modo speciale nuovo per nulla somigliante a quella mascia che in primavera veniva da me al mulino e la intonò perché t'amo notte chiara in tutto il tempo della nostra conoscenza era quella la prima volta che la sentivo cantare avevo una voce bella pastosa robusta e mentre cantava mi pareva di mangiare un merone maturo dolce e fragrante ma ecco che la finì l'applaudirono ed ella sorrideva assai contenta con gli occhi sfavillanti sfogliando la musica ravvivandosi il vestito come un uccello che è evaso finalmente dalla gabbia e in libertà si ravvia le ali aveva i capelli tirati sugli orecchi e sul volto un'espressione cattiva aggressiva come se volesse lanciare a tutti noi una sfida o gridarsi come a cavalli ehi voi cari e probabilmente in quel momento rossomigliavo molto al nonno postiglione anche tu qui domandò porzendomi la mano ne hai sentita cantare ebbene come mi trovi e senza aspettare la mia risposta seguitò sei qui molto a proposito questa notte parto e vado per breve tempo a Pietroburgo mi lasci andare a mezzanotte l'accompagnai alla stazione mi abbracciò con tenerezza probabilmente in segno di riconoscenza perché non le facevo domande inutili e promisse di scrivermi e io le strinsi le mani a lungo e gliele baciai trattenendo a stento le lacrime senza dirle nemmeno una parola e quando fu partita stetti a guardare i lumi che si allontanavano mentre le accarezzavo nella mia fantasia e dicevo piano mia cara Masha meravigliosa Masha passai la notte a Makalica dalla Karpovna e la mattina insieme a Korjedka già coprivo dei mobili in casa di un ricco mercante che sposava sua figlia a un dottore 17 la domenica dopo pranzo era venuta da me mia sorella e prendeva con me il tè ora leggo moltissimo diceva mostrandomi i libri che aveva preso la biblioteca municipale si è ringraziati tua moglie e Vladimir hanno risvegliato in me la coscienza di me stessa mi hanno risvegliato in me la coscienza di me stessa mi hanno salvata hanno fatto sì che io adesso mi senta una persona prima non dormivo la notte per vari sopra capi ah da noi nella settimana è andato molto zucchero ah che non ci salino troppo i cetrioli anche adesso non dormo ma ho già altri pensieri mi tormento perché metà della mia vita è passata in modo così sciocco e timorato il mio passato lo disprezzo me ne vergogno e il babbo adesso lo considero come mio nemico oh come sono riconoscente a tua moglie e Vladimir è un uomo così prodigioso mi hanno aperto gli occhi non è bene che tu non dormi alla notte dissi credi che io sia malata niente affatto Vladimir mi ha ascoltata e ha detto che sono perfettamente sana ma non si tratta della salute non è cosa tanto importante tu dimmi ho ragione ella aveva bisogno di un appoggio morale questo era evidente ma si era partita il dottor Blagovo era a Pietroburgo e in città non era rimasto nessuno tolto me che potesse dirle che aveva ragione mi fissava attentamente in viso cercando di leggere i miei segreti pensieri e se io in sua presenza mi facevo pensieroso e stavo zitto ella prendeva ciò a suo conto e diventava triste mi toccava star sempre in guardia e quando mi domandava se avesse ragione mi affrettavo a risponderle che aveva ragione e che io la stimavo profondamente sai dagli azogin mi hanno dato una parte continuò voglio recitar sulla scena voglio vivere in una parola voglio bere una coppa colma io non ho il contamento e la parte è in tutto di dieci righe ma è pur sempre una cosa incomparabilmente più alta e più nobile che versare il tè cinque volte al giorno e spiare che la cuoca non mangi un boccone di troppo e soprattutto veda infine il babbo che anch'io sono capace di una protesta dopo il tè si colicò sul mio letto e vi rimase un po' di tempo con gli occhi chiusi pallidissima che debolezza disse sollevandosi Vladimir diceva che tutte le donne e le ragazze della città sono anemiche per la loro inerzia che uomo intelligente Vladimir ha ragione ha mille volte ragione bisogna lavorare il ria due giorni venne dagli azogin alla prova con un quadernetto era vestita di nero con un filo di corallo al collo una spilla che da lontano somigliava a una pasta sfoglia e aveva agli orecchi due grossi orecchini in ciascuno dei quali luccicava un brillante quando le volsi uno sguardo mi sentì a disagio mi aveva colpito quella mancanza di gusto che a sproposito si fosse messa gli orecchini ai brillanti e che fosse vestita in modo strano se ne erano accorti anche gli altri vedevo sulle facce dei sorrisi e sentì che qualcuno disse ridendo Cleopatra l'egiziana e la si sforzava davvero un'aria di mondo disinvolta calma e perciò sembrava manierata e strana la semplicità e l'alezzadria l'avevano lasciata e anzi ho dichiarato al babbo che andavo a una prova e la cominciò avvicinandosi a me e lui ha gridato che mi privava della sua benedizione anzi per poco non mi ha picchiata figurati che io non so la mia parte disse gettando occhiate nel quadernetto di sicuro mi confonderò e così il dado è tratto continuò fortemente agitata il dado è tratto a lei pareva che tutti la guardassero e tutti fossero stupiti del passo importante a cui si era indotta che tutti aspettassero da lei qualcosa di speciale e persuaderla che a persone così piccole e prive di interesse come lei nessuno rivolgeva attenzione era impossibile fino al terzo atto non aveva nulla da fare e la sua parte di ospite di comare provinciale consisteva solo in questo e doveva sostare vicino all'uscio come origliando e poi dire un breve monologo fino alla sua entrata in scena almeno per un'ora e mezzo mentre sulla scena si camminava si leggeva si prendeva il tè si discuteva e non si scostò da me e per tutto quel tempo borbottò la sua parte sgualzendo nervosamente il quadernetto immaginandosi che tutti la guardassero e attendessero la sua uscita si ravviava con manotremanti i capelli e mi diceva di sicuro mi confonderò che peso ho nell'anima se tu sapessi ho tale una paura come se fra un istante mi dovessero condurre alla pena di morte finalmente venne la sua volta Clopatra Alexia Evra a voi disse il direttore di scena e la uscì nel mezzo della scena con un'espressione di terrore in volto brutta angolosa e per circa mezzo minuto ristette come in catalessi assolutamente immobile e solo i grossi orecchini le sondoravano sotto gli orecchi per la prima volta si può usare il quaderno disse qualcuno per me era chiaro che la tremava e per il tremito non poteva parlare né aprire il quadernetto e che non pensava affatto alla parte e già volevo andare da lei e dirle qualcosa quando ella un tratto si lasciò cadere in ginocchio in mezzo alla scena e si mise a singotar forte tutti si mossero tutti fecero chiasso all'intorno io solo me ne stavo appoggiato a una quinta colpito da ciò che era accaduto senza capire senza sapere che cosa dovessi fare vedi come la sollevarono e la portarono via figli accostarsi a me a Newtablagovo prima non l'avevo veduta nella sala e adesso era come spuntata di sotterra era in cappello con la veletta e come sempre aveva l'aria di essere entrata solo per un momento gliel'avevo detto che non recitasse disse stizzita pronunciando a scatti ogni parola e arrossendo è una pazzia la dovevate trattenere si avvicinò lestamente la zogin madre nel suo giubetto corto con maniche corte con cenere di tabacco sul petto magra e piatta amico mio è orribile proferì torcendosi le mani e al solito guardandomi fisso in viso è orribile vostra sorella è in stato è incinta conducetela via vi prego respirava affannosamente dall'agitazione e in disparte stavano le tre figlie al pari di lei magre e piatte e si stringevano timorosamente l'una all'altra erano stravolte sballordite come se in casa loro poc'anzi avessero acciuffato un galeotto che disonore che cosa terribile eppure quella onorata famiglia aveva in tutta la sua vita lottato contro i pregiudizi evidentemente essa supponeva che tutti i pregiudizi e gli errori dell'umanità stessero solo nelle tre candele nel numero tredici nel giorno in fausto il lunedì vi prego vi prego ripeteva la signora Zogin alteggiando le labbra a cuore sulla sillaba pre e pronunciandole come priè vi prego conducetela a casa diciotto poco dopo io e mia sorella andavamo per la strada io la coprivo con la falda del mio cappotto ci affrettavamo scegliendo le viuzze dove non c'erano rampioni nascondendoci ai passanti e ciò somigliava a una fuga ella non piangeva più e mi guardava con occhi asciutti fino a Macaricia dove la conducevo c'erano in tutto un venti minuti di cammino e cosa strana in così breve tempo riuscimmo a rammentare tutta la nostra vita parlamo di tutto considerammo la nostra condizione riflettemmo stabilimmo che ormai non c'era più possibile restare in quella città e che quando avessi guadagnato un po' di denaro ci saremmo trasferiti in qualche altro luogo in alcune case già si dormiva in altre si giocava a carte noi odiavamo quelle case ne avevamo paura e parlavamo del fanatismo della rozzezza di cuore della nullità di quelle onorate famiglie di quegli amatori dell'arte drammatica che avevamo tanto spaventati e io domandavo in che cosa quelle persone stupide crudeli indolenti disoneste fossero migliori dei contadini ubriaconi e superstiziosi di Kurilovka o in che cosa fossero meglio degli animali che sono anch'essi presi da sgomento allorché in qualche caso turba la monotonia della loro vita limitata dagli istinti che sarebbe stato ora di mia sorella se fosse rimasta a vivere in casa quali torture morali avrebbe subito discorrendo col padre incontrandosi ogni giorno con conoscenti io mi figuravo tutto ciò e lì per lì mi venivano alla mente delle persone tutte persone note che i loro familiari e parenti lentamente mandavano all'altro mondo mi tornarono alla memoria i cani torturati che impazzivano i passeri spennati vivi denudati dai monelli e poi gettati nell'acqua e la lunga lunga filza di sorde lente sofferenze che avevo osservato in quella città senza interruzione sin dall'infanzia e mi riusciva incomprensibile che vi vivessero quei 65.000 abitanti a che scopo leggessero il Vangelo a che scopo pregassero a che scopo leggessero libri e riviste quale vantaggio aveva loro recato tutto ciò che fino allora era stato scritto e detto che c'era in loro lo stesso buio morale e la stessa avversione alla libertà di cento e di trecento anni addietro un impresario di costruzioni per tutta la vita costruisce case in città e tuttavia fino alla morte invece di galleria dice galleria così anche quei 65.000 abitanti da generazioni leggono e sentono parlare di verità di misericordia e di libertà e tuttavia fino alla morte mentiscono da mattina a sera si tormentano a vicenda e della libertà hanno paura e l'odiano come un nemico e così la mia sorte è decisa disse mia sorella quando giungemmo a casa dopo quel che è accaduto non posso più tornar là no signore che bella cosa mi sento l'anima leggerita subito si mise in letto sulle ciglia le brillavano le lacrime ma la sua espressione era felice e la dormiva ad un sonno profondo e dolce e si vedeva che in realtà aveva l'anima leggera e si riposava da lungo lungo tempo ormai non dormiva così ed ecco che cominciamo a vivere insieme e la cantava sempre e diceva di sentirsi benissimo e i libri che prendevamo alla biblioteca io li riportavo indietro non letti perché ella non poteva più leggere aveva voglia soltanto di fantasticare e di parlare del futuro nel rammendare la mia biancheria o nell'aiutare Karpovna vicino alla stufa ora canticchiava ora parlava del suo Vladimir dell'intelligenza dei bei modi della bontà di lui della sua non comune cultura e io consentivo con lei sebbene non amassi più il suo dottore aveva voglia di lavorare di far vita indipendente per proprio conto e diceva che sarebbe andata a far la maestra o l'aiuto medico appena gli l'avesse permesso la salute e avrebbe lei stessa lavato i pavimenti alla biancheria già amava appassionatamente il suo piccolo non era ancora al mondo ma lei già sapeva come fossero i suoi occhi le sue mani e come ridesse amava parlare dell'educazione e poiché il miglior uomo al mondo era Vladimir anche tutti i suoi ragionamenti sull'educazione si riducevano solo a desiderare che il bambino fosse affascinante come il padre suo i discorsi non avevano fine e tutto ciò che diceva destava in lei viva gioia a volte mi allietavo anch'io senza sapere io stesso di che probabilmente mi aveva comunicato la sua inclinazione alla fantasticheria anch'io non leggevo nulla e sognavo soltanto la sera nonostante la stanchezza passeggiavo per la stanza da un angolo all'altro con le mani in tasca e parlavo di Masha che ne pensi domandavo a mia sorella quando tornerà credo che tornerà per Natale non più tardi chi ha da fare là se non ti scrive è evidente che tornerà molto presto è vero consentivo io pur sapendo benissimo che Masha non aveva più motivo di tornare nella nostra città io sentivo fortemente la sua mancanza ma non potevo più ingannare me stesso e cercavo che mi ingannassero gli altri mia sorella attendeva il suo dottore e io Masha e tutte e due parlavamo e ridevamo di continuo senza accorgerci che impedivamo di dormire alla Karpovna che era colicata sulla stufa e brontorava sempre di Samovar questa mattina borbottava borbottava oh non è buon segno miei cari non è buon segno da noi non veniva nessuno perché il postino che portava mia sorella le lettere del dottore e Prokofi che a volte la sera passava da noi e dopo aver guardato in silenzio mia sorella se ne andava e ormai in cucina diceva ogni professione si deve ricordare della propria scienza e chi per il suo orgoglio non lo vuol capire per lui c'è una valle di lacrime e gli amava le parole valle di lacrime una volta erano già le feste natalizie mentre passavo per il mercato mi chiamò nella sua macelleria e senza porgermi la mano dichiarò che aveva bisogno di parlare con me di una faccenda molto importante era rosso dal freddo e dalla vodka accanto a lui dietro il banco stava in piedi Nicolchia con la sua faccia da brigante tenendo in mano un coltello insanguinato desidero esprimervi una mia parola cominciò Prokofi questo fatto non è una cosa possibile perché voi stesso lo capite per una simile valle di lacrime la gente non lo derà né noi né voi la mammina certo per compassione non vi può dire una cosa spiacevole che la vostra sorellina si trasferisca in un altro alloggio a motivo del suo stato ma io non voglio più perché non posso approvare la sua condotta io lo capii e uscii dalla bottega quello stesso giorno io e mia sorella ci trasferimmo da Riedka non avevamo denari per prendere una vettura e andammo a piedi io portavo sulla schiena un fagotto con le nostre cose mia sorella invece non aveva nulla in mano ma si sentiva a soffocare tossiva e domandava sempre se saremmo arrivati presto 19 finalmente giunse una lettera di mascia gentile buono ma scriveva bravo mite angelo nostro come vi chiama il vecchio decoratore addio vado con mio padre in America all'esposizione tra alcuni giorni vedrò l'oceano è così lontano da De Bezgenia che fa paura pensarsi è lontano e immenso come il cielo e io voglio andarla giù verso la libertà io asulto io folleggio e voi vedete com'è sconnessa la mia lettera gentile e buono MA datemi la libertà aspettate al più presto il filo che ancora tiene legando me e voi avervi incontrato e conosciuto è stato il raggio celeste che ha rischiarato la mia esistenza ma l'essere diventato vostra moglie è stato un errore questo voi lo capite e adesso la consapevolezza dell'errore mi pesa e io vi supplico in ginocchio mio generoso amico telegrafatemi al più presto possibile prima della mia partenza per l'oceano che consentite a correggere il nostro comune errore a togliere quest'unica pietra dalle mie ali e mio padre che si assumerà tutte le brighe mi promette di non gravarvi troppo di formalità e così sono libera di andare in capo al mondo? Sì siate felice che Dio vi benedica perdonate me peccatrice sono viva e sana sperpero il denaro faccio molte sciocchezze e a ogni momento ringrazio Dio che una donna cattiva come me non abbia bambini io canto e ho un buon successo ma questa non è un'infatuazione no questo è il mio porto la mia cella dove ora mi ritiro per riposare il re David aveva un anello col motto tutto passa quando sono triste queste parole mi rendono Gaia e quando sono Gaia mi rendono triste anch'io mi sono procurato un anello simile con lettere ebraiche e questo talismano mi persevererà dalle infatuazioni tutto passa passerà anche la vita quindi nulla è necessario oppure è necessaria soltanto la coscienza della libertà perché quando l'uomo è libero nulla nulla gli è necessario spezzate dunque il filo abbraccio forte voi e vostra sorella perdonate e dimenticate la vostra M mia sorella era colicata in una stanza Riedka che di nuovo era stato malato e già si andava rimettendo in un'altra proprio nel momento in cui avevo ricevuto questa lettera mia sorella era entrata piano dal decoratore si era messa a sedere lì accanto e aveva preso a leggere ogni giorno gli leggeva Ostrowski o Gogol ed egli ascoltava guardando un punto senza ridere scotendo il capo e ogni tanto morborava tra sé tutto può essere tutto può essere se in un dramma si raffigurava qualcosa di brutto di Laido e gli diceva quasi con gioia maligna puntando il dito sul libro ecco la menzogna ecco quel che essa fa la menzogna i lavori di teatro la tiravano per il contenuto per la morale per la loro complessa ingegnosa struttura ed egli si meravigliava di lui non chiamandolo mai col suo nome con che abilità lui ha messo tutto a posto quella volta mia sorella lesse piano una sola pagina e non poteva andare oltre le mancava la voce Riedka le prese la mano e muovendo le labbra le insecchite disse in modo appena audibile con voce roca l'anima del giusto è bianca e liscia come il gesso quella del peccatore invece è come la pietra pomice l'anima del giusto è olio di lino chiaro quella del peccatore è bitume bisogna faticare bisogna soffrire bisogna compatire seguitò e l'uomo che non fatica e non soffre non avrà il regno dei cieli guai guai ai sazi guai ai forti guai ai ricchi guai a chi presta denaro non vedranno il regno dei cieli il golcoglione mangia l'erba la ruggina il ferro e la menzogna l'anima continuò mia sorella e scoppiò a ridere lesse un'altra volta la lettera proprio in quel momento arriva in cucina il soldato che ci portava due volte la settimana non si sapeva da parte di chi del tè dei panini francesi e delle starne che sentivano di profumi lavoro io non ne avevo mi toccava stare a casa per intere giornate e probabilmente chi ci mandava quei panini sapeva che eravamo in bisogno udì mia sorella discorrere col soldato e ridere allegramente poi stando codicata mangiò un panino e mi disse quando non volesti più essere un impiegato e andasti a fare il decoratore io e Anjuta Blagovo sapevamo fin dal principio che avevi ragione ma avevamo paura di dirlo ad alta voce dimmi quale forza mai ci impedisce di confessare quel che pensiamo ecco prendiamo magari Anjuta Blagovo lei ti ama ti adora sa che hai ragione ama anche me come una sorella e sa che ho ragione e in cuor suo credo mi invidia ma una qualche forza le impedisce di venire da noi lei ci sfugge si teme mia sorella incrociò le braccia sul petto e disse con enfasi come ti ama se tu sapessi quest'amore l'ha confessato a me sola di soppiatto al buio nel giardino mi conduceva in un viale scuro e cominciava a sussurrarmi quanto le sei caro vedrai che non si sposerà mai perché ti ama la compiangi si è stata lei a mandare i panini è ridicola in verità a che nascondersi anch'io ero ridicola e sciocca ma ecco che son venuta via di là e non temo più nessuno penso e dico ad alta voce quello che voglio e son diventata felice quando abitavo in casa non avevo neppure la nozione della felicità ma adesso non cambierai con una regina arrivò il dottor Blagovo aveva conseguito la laurea in medicina e ora abitava nella nostra città presso il padre si riposava e diceva che presto sarebbe nuovamente partito per Pietroburgo voleva occuparsi di vaccinazioni antitifiche e pare anticoleriche voleva andare all'estero al fine di perfezionarsi e poi occupare una cattedra aveva già lasciato il servizio militare e portava giacche ampie di chevio calzoni larghissime e magnifiche cravate mia sorella era entusiasta delle sue spille dei suoi gemelli ed un fazzolettino rosso di seta che egli probabilmente per civetteria teneva nel taschino della giacca una volta non sapendo che fare io e lei ci mettemmo a contare a memoria tutti i suoi vestiti e concludemmo che ne aveva perlomeno una decina era chiaro chiamava mia sorella come in passato ma non una volta nemmeno per celia disse che l'avrebbe portata con sé a Pietroburgo all'estero e io non mi potevo immaginare chiaramente quel che sarebbe stato di lei se fosse rimasta in vita e quel che sarebbe stato del suo bambino ma lei non faceva che fantasticare senza fine e non pensava seriamente all'avvenire diceva che gli poteva andare dove voleva e persino abbandonarla purché egli stesso fosse felice che a lei bastava quel che era stato di solito giunta da noi egli la auscultava molto attentamente ed esigeva che in sua presenza bevesse del latte con certe gocce e anche quella volta fu la stessa cosa la auscultò e le fece bere un bicchiere di latte dopodiché dopo di che nelle nostre stanze si sentì un odore di creosoto ecco una saggia bambina disse prendendole bicchiere tu non devi parlare molto invece negli ultimi tempi chiacchieri come una gazza per favore sta zitta lei si misce a ridere poi egli entrò nella camera di rieca dove io ero seduto e mi batté affettuosamente sulla spalla beh che c'è vecchio domandò chinandosi verso il malato vostra nobiltà preferì rieca muovendo piano le labbra vostra nobiltà oso dirvi tutti siamo nelle mani di dio tutti dobbiamo morire permettetemi di dirvi la verità vostra nobiltà voi non andrete nel regno dei cieli che farsi se li ho il dottore bisogna pure che qualcuno vada all'inferno è un tratto qualcosa accadde nella mia coscienza mi parvi di sognare che d'inverno una notte stavo nel cortile del macello e al mio fianco c'era Prokofi che mandava odor di vodka pepata io feci uno sforzo su di me e mi stropicciai gli occhi e subito mi figurai che andavo dal governatore per spiegazioni nulla di simile mi accadde mai né prima né dopo e queste strane ricordanze simili al sogno le spiego con l'esaurimento nervoso rivivevo e la scena del macello e la spiegazione col governatore nel tempo stesso avevo confusa consapevolezza che ciò non esisteva in realtà quando mi riebbi vidi che non ero più in casa ma sulla via e stavo insieme col dottore vicino a un lampione è triste è triste egli diceva e le lacrime gli scorrivano per le guanze stai allegra ride di continuo pera ma il suo stato è disperato colombello il vostro lietica mi odia e vuol sempre dare a capire che ho agito male con lei la sua modo ha ragione ma anch'io ho il mio modo di vedere e non mi pento affatto di ciò che è avvenuto bisogna amare e noi tutti dobbiamo amare non è vero senza l'amore non ci sarebbe la vita e chi teme e fugge l'amore non è libero a poco a poco egli passò ad altri argomenti si mise a parlare di scienza e la sua dissertazione di laurea che a Pietroburgo era piaciuta parlava con entusiasmo e non si ricordava più né di mia sorella né del proprio dolore né di me la vita lo affascinava a quella l'America è l'anello col motto pensavo io a questo la laurea in medicina è una carriera scientifica e soltanto io e mia sorella siamo rimasti come prima congedatomi da lui mi avvicinai a un lampione e lessi un'altra volta la lettera e ricordai ricordai vivamente che in primavera una mattina ella era venuta da me al mulino e si era coricata coprendosi con una pelliccia corta voleva somigliare a una semplice contadina e quando un'altra volta anche di mattina tiravamo fuori dall'acqua una nassa dai salici della riva cadevano su di noi grosse gocce di pioggia e noi ridevamo nella nostra casa sulla Bolshea Zvorianskaya era buio io scavalcai lo stecconato e come facevo un tempo passai per la porta di servizio in cucina per prenderla una lucernetta in cucina non c'era nessuno vicino alla stufa si bilava il samovar in attesa di mio padre chi adesso pensai versa il tè a mio padre presa la lucernetta andai nella casupola e là mi feci un letto con i vecchi giornali e mi coricai gli alpioni sui muri mi guardavano severi come in passato e le loro ombre oscillavano faceva freddo immaginai che da un momento all'altro dovesse venire mia sorella a portarmi la cena ma subito mi ricordai che giaceva malata in casa di Riedka e mi parve strano di aver scavalcato lo stecconato e di essermi colicato nella casupola non riscaldata la mia coscienza si annebbiava e io vedevo ogni sorta di stramberie una scampanellata suoni noti fin dall'infanzia da prima il fil di ferro fruscia sul muro poi in cucina risuona un breve lamentoso tintinio era tornato mio padre dal circolo mi alzai e mi diressi in cucina la cuoca Xinia veduto mi batte le mani e chissà perché cominciò a piangere ragazzo mio si mise a dire piano caro oh signore e dall'agitazione prese a strazionare fra le mani il suo grembiule sulla finestra stavano dei bottiglioni pieni di bacche con vodka me ne versai una tazza da tè e la vuotai avidamente perché avevo una gran voglia di bere solo poco prima Xinia aveva lavato la tavola e le panche e nella cucina c'era l'odore che suole essersi nelle cucine luminose e comode dove le cuoche sono pulite questo odore è lo striglio del grillo un tempo nell'infanzia attiravano noi bimbi la cucina e ci disponevamo ad ascoltare le fiabe a giocare ai birilli e Cleopatra dov'è? domandava Xinia piano in fretta trattenendo un respiro e tuo berretto dov'è Vatushka? ma tua moglie dicono è andata Peter e la ragia al servizio di nostra madre e un tempo faceva fare il bagno a me e Cleopatra in un mastello e adesso per lei eravamo tuttora dei bambini che era necessario ammaestrare forse in un quarto se io e mia sorella ci fossimo inchinati profondamente al babbo e l'avessimo pregato per benino forse ci avrebbe perdonati e si sarebbe dovuto far dire un tedeum alla regina dei cieli su va Vatushka parla con lui disse quando si udì mio padre Tossila va parlagli inchinati non ti si staccherà la testa io andai mio padre era già seduto davanti alla tavola e tralzava il progetto di una villa con finestre gotiche e una grossa torre simile alla vedetta dei pompieri qualcosa di oltremodo rigido e senza genialità entrato nello studio mi ero fermato in modo da poter vedere quel disegno non sapevo perché fossi andato da mio padre ma ricordo che quando vidi la sua faccia scarna e il suo collo rosso la sua ombra sulla parete mi venne voglia di buttarmi lì al collo e come mi aveva insegnato Xinia di fargli un profondo inchino ma la vista della villa con le finestre gotiche e la grossa torre mi trattenne buonasera dissi egli mi gettò uno sguardo e subito abbassò gli occhi sul disegno che ti occorre domandò dopo un po' poco sono venuto a dirvi che mia sorella è molto malata presto morirà soggiunsi con voce sorda ebbene sospirò mio padre togliendosi gli occhiali e posandoli sulla tavola raccoglierai quel che hai seminato raccoglierai ripete alzandosi dalla tavola quel che hai seminato ti prego di ricordare che due anni fa venisti da me e proprio in questo stesso luogo io ti pregai ti supplicai di abbandonare i tuoi errori ti rammentai il dovere l'onore e i tuoi obblighi verso gli avi le cui tradizioni noi dobbiamo santamente custodire mi desti retta hai disdegnato i miei consigli e hai continuato a seguire con ostinazione le tue false vedute non basta e i tuoi errori hai coinvolto anche tua sorella e le hai fatto perdere la moralità e la vergogna adesso vi va male a tutte e due ebbene raccoglierai quel che hai seminato e gli diceva questo e camminava per lo studio probabilmente pensava che fossi venuto da lui per fare ammenda e probabilmente si aspettava che cominciassi a pregarlo per me e per mia sorella io avevo freddo tremavo come in preda alla febbre e parlavo a fatica con voce roca anch'io vi prego di ricordare dissi che in questo stesso luogo vi supplicai di comprendermi di riflettere di definire insieme con me come e perché cosa dovessimo vivere e voi in risposta vi metteste a parlare degli avi del nonno che scriveva versi vi si dice adesso che la vostra unica figlia è in condizioni disperate e voi tornate a parlare di avi di tradizioni e tanta leggerezza in vecchiaia quando la morte non è più lontana quando vi sono rimasti da vivere forse 5 o 10 anni perché sei venuto qui domandò se è vero mio padre evidentemente offeso che lo avessi rimproverato di leggerezza non lo so io vi amo e mi vuole in modo indicibile che siamo così lontani l'uno dall'altro ed ecco che sono venuto io vi amo ancora e mia sorella ha già rotto definitivamente con voi lei non vi perdona e non vi perdonerà mai più il vostro solo nome le suscita disgusto per il passato per la vita e chi ne ha colpa gridò mio padre tu stesso ne hai colpa ma scalzone sì io avrò colpa dissi lo confesso sono colpevole molte cose ma perché con questa vostra vita che voi stimate obbligatoria anche per noi perché è così triste così mediocre perché non in una di queste case che voi andate costruendo ormai da 30 anni e sono uomini ai quali io possa imparare come vivere per non essere colpevole in tutta la città non c'è nemmeno un uomo onesto queste vostre case sono nidi maledetti dove si mandano all'altro mondo le madri e le figlie si tormentano i bambini povera madre mia continuai con disperazione povera sorella è necessario stordirsi con la vodka le carte i petticolezzi bisogna commettere bassezze far l'ipocrita o per decine d'anni trazzare progetti e progetti per non accorgersi di tutto l'orrore che si nasconde in queste case la nostra città esiste già da centinaia d'anni in tutto questo tempo non ha dato alle patrie nemmeno un uomo utile nemmeno uno voi avete soffocato in germe tutto ciò che solo un tantino era vivo e luminoso città di bottegai di osti di burocrati di ipocriti città superflua inutile che non un'anima rimpiangerebbe se a un tratto sprofondasse sotto terra non ti voglio ascoltare ma scalzone disse mio padre e prese sulla tavola un regolo tu sei ubriaco guardati bene dal comparire in tale stato davanti a tuo padre ti dico per l'ultima volta e questo riferiscilo alla tua scostumata sorella che da me non riceverete nulla io ho strappato dal mio cuore i figli disubbidienti e se si soffrono per la loro disubbidienza e ostinazione non li compiango puoi andartene là di dove sei venuto a Dio è piaciuto punirmi per mezzo vostro ma io sopporto umilmente questa prova e come Dobbe trovo conforto nelle sofferenze e nel continuo lavoro tu non dovrai varcare la mia soglia finché non ti sarai corretto io sono giusto tutto quello che dico è utile e se tu vuoi il tuo bene ti devi ricordare per tutta la vita di ciò che ti ho detto e ti dico io lasciai correre e uscii poi non rammento quel che accade la notte e il giorno dopo dicono che andassi per le vie senza berretto barcollando e cantassi forte mentre i monelli mi venivano dietro a frotte e gridavano piccolo utile piccolo utile 20 se avessi voglia di ordinarmi un anello sceglierai questo motto nulla passa io credo che nulla passi senza trazza e che ogni nostro minimo passo abbia un significato per la vita presente e futura quel che io vissi non è passato in vano le mie grandi sventure la mia pazienza hanno toccato il cuore dei miei contadini e adesso non mi chiamano più piccolo utile non ridono di me e quando passo per le file del mercato non mi annaffiano più di acqua al fatto che sono diventato un operaio si sono ormai abituati e non vedono nulla di strano in ciò che io nobile porti il secchio della tinta e metta vetri al contrario mi danno volentieri delle ordinazioni e io sono già stimato un buon artigiano e il miglior impresario da Polietica il quale benché sia guarito e come il passato dipinga senza ponti la cupola dei campanili non ha più la forza di dominare i suoi garzoni al suo posto io corro adesso per la città cercando ordinazioni assumo e licencio garzoni prendo denaro a prestito a forte interesse e ora divenuto impresario capisco come per un'ordinazione da nulla si possa correre tre giorni per la città in cerca di copritetto con me sono cortesi mi danno del voi e nelle case dove lavoro mi offrono il tè e mandano a domandare se voglio a pranzare i bambini e la ragazzina vengono spesso a guardarmi con curiosità e tristezza una volta lavoravo nel giardino del governatore e dipingevo là una pergola di finto marmo il governatore passeggiando entrò nella pergola e non avendo nulla da fare si mise a parlare con me e io gli ricordai come egli un tempo mi avesse invitato ad andare da lui per spiegazioni per un minuto mi fissò in viso poi fece la bocca come una O allargò le braccia e disse non ricordo sono invecchiato mi sono fatto taciturno burbero severo rido raramente e dicono che sono diventato simile a Riedka e come lui faccio venire luce ai garzoni coi miei inutili ammaestramenti Maria Viktorovna la mia ex moglie ora vive all'estero e suo padre l'insegnere costruisce una strada non so dove nelle province orientali e vi compra delle proprietà il dottor Blagovo è anche lui all'estero Dubechnia è passata di nuovo la signora Seprakov che l'ha comprata ottenendo dall'ingegnere il 20% di ribasso Moisei va già col tubino viene spesso in città su un carrozzino leggero per certi affari e si ferma vicino alla banca dicono che si è già comprata una proprietà rilevandone il passivo e si informa continuamente la banca riguardo Dubechnia che si accinge a comprare del pari il povero Ivan Seprakov bichellò a lungo per la città senza far nulla e ubriacandosi io tentai di impiegarlo nel nostro mestiere e per un certo tempo egli verniciò i tetti e collocò vetri insieme con noi ci aveva anzi preso gusto e come un vero decoratore rubava l'olio di lino chiedeva la manca e si ubriacava ma presto il lavoro gli venne a noia si tediò e ritornò a Dubechnia e in appresso i garzoni mi confessarono che li aveva estigati ad andare con lui una notte a uccidere Moisei e a svaliggiare la generalessa mio padre è fortemente invecchiato è fatto curvo e la sera passeggia nei pressi di casa sua io non vado da lui Prokofi durante il colera curava i bottegai con vodka pepata e catrame facendosi pagare e come appresi dal nostro giornale l'avevano punito con le verghe perché stando nella sua macelleria aveva sparlato dei medici il suo commesso Nicolka è morto di colera la Karpovna è ancora viva e come in passato ama e teme il suo Prokofi vedendomi vuota ogni volta tristemente il capo e dice con un sospiro se è rovinata la sua testolina nei giorni feriali sono occupato da mattina presto fino a sera ma le feste col tempo buono prendo in brazzo la mia minuscola nipotina mia sorella aspettava un bambino ma le nacque una bimba e vado senza affrettarmi al cimitero là sto in piedi o mi metto a sedere e guardo a lungo la tomba a me cara e dico alla bimba che lì dace la sua mamma a volte presso la tomba trovo a New Tablagovo ci salutiamo e restiamo in piedi silenziosi o parliamo di Clepatra della sua bambina e di come sia triste vivere a questo mondo poi usciti dal cimitero camminiamo in silenzio ed ella rallenta il passo di proposito per camminare più a lungo al mio fianco la bambina gioiosa e felice succhiudendo gli occhi per la viva luce del giorno ridendo le tende e le manine e noi ci fermiamo e accarezziamo insieme quella gentile bambina ma quando entriamo in città a New Tablagovo agitandosi arrossendo si è commiata da me e prosegue sola grave austera e più nessuno dei passanti potrebbe pensare guardandola che un momento prima camminasse al mio fianco e accarezzasse perfino la bimba grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti